La parola al Presidente della Commissione Verifica Poteri per sapere se l'Assemblea può essere costituita. Allora, su 73 società affiliate per 3.762 voti sono presenti 30 società in un totale di 3.054 voti, pari all'81,18%. L'Assemblea è valida in prima convocazione. Bene, le norme a questo punto dicono che io chiedo all'Assemblea la nomina del Presidente dell'Assemblea, io proporrei per fianco l'Avvocato Simone Rocchetti, che nell'occasione io ringrazio perché è uno dei consiglieri usciti, o ancora meglio il Vice Presidente, il quale, come poi vedremo nell'esposizione di cui avrò modo di parlare più avanti, ha dato la sua piena disponibilità a lasciare posto ai più giovani, ma da creare quella che è una situazione di ricardo. Per questo motivo io lo ringrazio e proprio per questo motivo chiedo a lui di fare da Presidente dell'Assemblea, che poi è preludio di una lunga e profigua collaborazione con il Comitato regionale. L'Assemblea è d'accordo? Quindi a questo punto io termino il mio ruolo di Presidente di Comitato regionale e lascio la parola al Presidente dell'Assemblea, Simone Rocchetti. Allora, buongiorno a tutti, già mi ha dato del vecchio, ha detto più giovane, già mi ha dato del vecchio. Allora, due considerazioni preliminari. La prima, troverete nel nostro banchetto, nella nostra scrivania, con una penna sopra, un elenco numerato in cui ognuno può scrivere il suo nome e il suo cognome, la società di appartenenza e l'argomento sul quale vuole intervenire. Questo perché, come sapete, poi durante l'Assemblea ad ognuno potrà essere data la parola e potrà portare il proprio apporto su uno specifico argomento posto all'ordine del giorno. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, permettetemi di salutare tutti dell'Assemblea, ma in particolare coloro che vengono da zone colpite dal terremoto a cui siamo molto vicini, penso, come tutte le società e come tutti i presenti e quindi un ringraziamento particolare a coloro che vengono da Tolentino, da Camerino e quindi anche alle società che in questo momento si trovano anche in grossissima difficoltà a sboggere quella che è l'ordinaria attività di Atletica Leggerna. Permettetemi, e vorrei che ci porti anche un saluto, permettetemi di ringraziare moltissimo, e a lei adesso cedo la parola, la neoconsigliere nazionale, da poco eletta, la signora Ida Nicolini. Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno anche agli amici del Consiglio passato. Io riparto, non sono giovane, quindi non sono la parte giovane che avanza, anzi casomai sarebbe la parte vecchia che ritorna, però mi sono rimessa in gioco perché ritengo che sia importante dare ancora un pezzo di contributo nella mia vita a cercare di ripartire con il piede giusto in questa atletica che in questi ultimi anni ci ha dato un po' di problemi e un pochino di delusioni. Io ringrazio il Presidente federale che mi ha mandato nelle marche, perché sai i rapporti d'amicizia che mi legano con Pino Scorzoso, penso che questo sia stato il motivo per cui io ieri da Padova sono venuta qua molto volentieri. Ho fatto un percorso in Consiglio federale con Pino, Pino è considerato da tutti noi che ci siamo presentati con il gruppo di Stefano Nei, è considerato il nostro mentore, la persona alla quale noi ci rivolgiamo quando vogliamo confrontarci sulle tematiche di politica sportiva, vi dico la verità. Abbiamo una grande fiducia in quello che si ripresenta come vostro Presidente, perché a volte non è l'età che conta, ma è la capacità di stare dentro a un movimento con la passione e con la voglia di misurarsi sempre con le cose e con la voglia di far progredire questo mondo. Noi non ci sediamo, non ci accontentiamo, non siamo quelli che poi saranno accondiscendenti nei confronti delle proposte federali, vigileremo a nome di tutti coloro che ci hanno votato e staremo molto attenti a far marciare questa macchina nella direzione che noi vogliamo. Ovviamente con il contributo di tutti voi, noi siamo a disposizione come consiglieri federali, però contiamo molto in questo filo diretto che ci lega con le società sportive, perché io vengo da una società sportiva, mi rito in una società sportiva, sono nata in questa società sportiva che è il Cuspisa, che ha cambiato un po' di nomi ma che è sempre rimasto Cuspisa, non ho mai abbandonato il campo, io ho fatto l'amministratore per tantissimi anni, non ho mai saltato gli allenamenti, quindi sono una che vive l'atletica e vive le difficoltà dell'atletica, quindi noi sappiamo che il tessuto più importante della federazione sono le società sportive, perché collegano tutti gli aspetti che sono nel nostro mondo sportivo, quindi i dirigenti, gli atleti, i tecnici e i giudici, questo è il nostro mondo, noi dobbiamo essere rispettosi di tutte queste figure, vi garantisco che il nostro gruppo ha ben chiaro il percorso, speriamo che ci facciano percorrere la strada che vogliamo e faccio i miei auguri in bocca al lupo al Presidente che si presenta, di missionario e che si ripresenta, perché il suo cammino possa essere affiancato al nostro. Grazie a tutti. Allora direi di far dare un saluto anche al Presidente regionale del CONI, al Dottor Peschini, grazie per essere intervenuto. Buongiorno a tutti e grazie a Pino per l'invito. Che dire, Pino è un amico, abbiamo fatto un percorso non totale dei quattro anni, per un anno e mezzo, quando poi Storani aveva lasciato l'incarico, sono salito io nella cattedra e con Pino c'è stato sempre un figlio, signor che ha detto il Presidente dell'Assemblea per quanto riguarda i propri problemi del terremoto. Noi stiamo lavorando e la prossima settimana abbiamo un incontro a Polentino con tutti i comuni della provincia di Macerata, invitando i sindaci, gli assessori allo sport, i presidenti delle federazioni regionali e chi ce l'ha anche provinciali, per vedere lo stato di salute e vediamo qualcosa che si possa fare come abbiamo fatto su Pantosina, sul Camerino, su Arquata del Tronto e facciamo adesso lungo la costa adriatica per tutti quanti gli abbelli dove ci sono i suoi lati. Che devo dire? L'atletica è salute, Pino lo sa, cosa ne penso, gli sono sempre vicino e vi devo condividere sempre le cose che lui chiede per quello che è sempre possibile fare. Grazie e buona Assemblea a tutti. Allora passiamo al vivo dell'Assemblea, direi di nominare come segretaria della nostra Assemblea la signora Cristina Marino che sta qui a fianco a me, che sta già iniziando a verbalizzare e a scrivere appunti. La prima cosa che deve fare il presidente è chiedervi se ci sono ai sensi dell'articolo 44,2 dello statuto organico eventuali controversie sulla verifica poteri, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Nulla, quindi passiamo oltre. Io vorrei invece ai sensi dell'articolo 44,7 fare un cambio all'ordine del giorno per dare comunque più organicità a questa Assemblea. Voi come vedete l'ordine del giorno prevede il punto C, la relazione del presidente, poi l'intervento dei componenti dell'Assemblea e la relazione programmatica. Direi di spostare il punto E dopo il punto C e quindi far fare tutto un discorso e per quanto riguarda la relazione del presidente per il quadriennio 2012-2016 e per quanto riguarda invece la relazione programmatica in un unico punto e quindi spostarlo e poi dare spazio a tutti questi che sono gli interventi, i vostri interventi che vi ribadisco potete già iniziare a indicare il vostro nominativo. Siete d'accordo su questo cambio? Facciamo quindi relazione e relazione programmatica. Allora, approvato, facciamo quindi un unico punto, spostiamo il punto E dell'ordine del giorno al punto C. Ok? Ci siamo? Allora, quindi direi di andare avanti con l'Assemblea, con la relazione del presidente regionale sulla gestione del quadriennio 2012-2016 e a seguire la relazione programmatica per quanto riguarda questi nuovi quattro anni dal 2016 al 2017-2020. Di nuovo, buongiorno. Innanzitutto desidero ringraziare di cuore la presenza dei nostri ospiti. Il presidente del Coni ha avuto già la possibilità di portare il suo saluto, ma in modo da attivare i miei colleghi mi hanno prescivuto nella gestione e dirigenza di questo comitato regionale, di questa regione, Romano De Angelis e il presidente Magliotto. Vorrei dare un applauso a loro. I più giovani probabilmente non li conoscono, perché poi dopo di loro ci sono stati altri presidenti, di cui tra poco accenderò anche di loro, ma loro sono stati diciamo così coloro che hanno fatto sì che questa regione, negli anni proprio più importanti forse dopo quelli che stanno per venire, che questa regione sia nata e su quelle basi sono nate molte società che oggi ancora fanno attività, sono nate dei dirigenti e è nata quella che poi è stata la forza della Zedica Marchigiana in Italia. La forza di una regione probabilmente non grande, cioè non probabilmente, non grande, forse non certamente ai massimi livelli di quello che è il suo potenziale elettorale, ma che comunque sempre negli anni e nei quadrienni si è distinta sia per il suo modo di porsi nelle assemblee nazionali, reale e unito, anche quando poi nel Stato Unito, comunque sempre con un comportamento estremamente reale e estremamente chiaro, cosa che purtroppo dobbiamo dire nelle nostre assemblee molto spesso non accade, cioè ci sono molto spesso dei movimenti che non rappresentano il meglio del nostro essere, noi invece lo siamo stati, in modo particolare appunto partendo da loro e poi proseguendo a mediante. Io gli ringrazio per la loro presenza che per me è un onore, è un riconoscimento alla mia attività e nello stesso tempo è uno stimolo all'andare avanti. Grazie. A loro ho invitato anche altre persone che in qualche modo rappresentano quello che è il movimento, ciò che viene fatto in questo palaindo al di là di quella che è l'attività istituzionale. Oggi si concludono quattro anni importanti della vita della Trenica Marchigiana. Le pagine che seguono hanno lo scopo di presentare un analisi dei risultati ottenuti nei vari settori dell'attività del Comitato regionale, in modo che tutti possano dare una valutazione la più corretta possibile dei risultati ottenuti. Il quadriennio 2013-2016 veniva da un anno di commissario, dovuto alla scompazza del Presidente in carica Luigi Seresi, che per una casualità che io non considero casuale, ma per me siccome il destino ha sempre un significato, oggi cade proprio il quinto anniversario della sua morte. Non l'abbiamo fatto apposta. E quindi un pensiero particolare va a lui e va all'altro Presidente che l'anno scorso ci ha lasciato, che sono stati i miei due fratelli in questo cammino e quelli che mi hanno lasciato le retini, Roberto del Brutto, al quale va il nostro più caro ricordo. Il Consiglio eletto ci era dato come obiettivo primario quello di proseguire all'impostazione della precedente amministrazione, con particolare attenzione alla crescita dell'attività giovanile, al miglioramento della capacità organizzativa dei vari eventi su pista e su strada, al miglioramento della comunicazione sia verso l'esterno sia verso il nostro mondo. A un più ampio coinvolgimento del territorio, a una maggiore collaborazione con gli enti locali. A questo ci aggiungono poi una gestione economica attenta e dettata da criteri di adeguamento alla spesa delle entrate, con una costante verifica di queste ultime. E un'organizzazione di uffici regionali in grado di assolvere in modo sempre più efficace alle esigenze di gestione e di organizzazione della nostra attività, con piena disponibilità verso le richieste e i bisogni dei nostri associati. Gestione economica. Chiaramente voi avete, abbiamo cercato di fare una relazione scritta per cui alcune parti mi astengo da commentare, perché in modo poi dobbiamo leggere magari con calma, una relazione fatta essenzialmente di numeri e di grafici, perché ritengo che alla fine i numeri sono quelli che possono dare una visione, diciamo, obiettiva di quello che è e ognuno li può analizzare, li può valutare secondo quelle che sono le proprie esperienze e le proprie conoscenze. L'operato del Comitato di Giorno e Marche da un punto di vista strettamente contabile è rappresentato come una qualsiasi azienda privata da uno Stato patrimoniale da un costo economico così composto. Stato patrimoniale e conto economico, non vi sto a dire che cosa è lo Stato patrimoniale e il conto economico. Patrimonio Netto ha analizzato i risultati, il bilancio conseguito nel quadri anni 2012-2015, il bilancio 2006 è ancora da chiudere, è possibile riscontrare come il dato, forse più significato di Dio sia rappresentato dal completo annullamento del deficit patrimoniale e ridato da recente gestione, meno 28 mila euro, ed ha consolidarsi negli anni un patrimonio netto, fondo di dotazione possibile perché a 3112-2015 ammonta complessi 44 mila euro. Desidero precisare, cioè nel legge potrebbe significare che la gestione economica delle gestioni precedenti sia stata una gestione economica errata, no. Ci sono state delle situazioni contingenti e anche delle disattenzioni da parte di alcune cose che hanno portato purtroppo a un deficit. Noi eravamo nei primi anni di esperienza della gestione Palaindo, eravamo in un momento difficoltoso anche di rapporto, di cercare di far capire bene alla federazione quello che era l'impegno economico della gestione Palaindo, eravamo agli inizi per cui non c'erano le esperienze tale da poter riportare anche nuove risorse, per cui una disattenzione, un rapporto anche col comune di Ancona che ci ha portato a non recuperare il massimo di quello che potevamo recuperare e qui di Pianagano avevamo creato, c'è stata una gestione degli europei del 2009, anche lì ci ha creato qualche piccolo problema, per cui pur essendo certamente attenti e validi quanto è noi e onesti, quanto è noi si era portato allo sbilancio, ma purtroppo quello c'era e l'abbiamo dovuto recuperare. L'abbiamo recuperato attraverso un attento rapporto con l'amministrazione comunale, siamo riusciti a recuperare perché lì c'era la possibilità di avere un contributo massimo di, e quel massimo di praticamente era interpretato dal loro dirigente come un qualcosa di aleatorio, per cui non era mai massimo, per cui lì abbiamo portato delle risorse, e anche nei rapporti della federazione centrale in cui noi stavamo organizzando, come noi organizzavamo e stiamo organizzando tutti gli anni tutta l'attività intro, ma in realtà i costi della gestione dei campionati rigadevano totalmente sul comitato regionale senza avere nessun apporto, diciamo, centrale. A riuscire a trovare dei giusti equilibri ci ha portato a mettere in ordine queste situazioni, per cui oggi possiamo dire che l'equilibrio l'abbiamo raggiunto e lo possiamo raggiungere ancora. L'analisi del bilancio del patrimonio, oltre al rafforzamento patrimonale, emergono per quanto concerne i ricavi due importanti spunti di riflessione. L'equilibrio di bilancio è stato raggiunto, nonostante che sia deciso di diminuire il peso dei ricavi e trade relative alle volte degli associati in un momento quindi, per quanto di responsabilità del comitato regionale, quindi io parlo di quella che è la politica regionale, non parlo della politica nazionale. Lione è il carico delle società sportive, mi riferisco in modo particolare per esempio, non so, alle tasse delle corse su strada e quant'altro siamo tra quelli che hanno le tasse più basse. Sono aumentati in misura a considerare gli altri ricavi, principalmente quelli derivanti dalle attività commerciali, ossia quelli derivanti dalla gestione palaindo a favore di attività di terzi soggetti pubblici e privati. Ma peraltro, rimarcato, come i sovraindicati di città sono stati conseguiti in un contesto economico non certo facile. La crisi economica da anni attanali al nostro paese sta rendendo sempre più difficile reperire risorse, inoltre i contributi degli enti pubblici sono costante contrazioni. A tal proposito va ricordato che in base alle considerazioni di qui sopra il Comitato Regione Marche è stato capace anche di riuscire a contenere il potenziale danno derivante dal fallimento della banca Marche, già mai sponso del palaindo, occasione nella quale in un sul corpo è stata persa una sponso di azione di ben 30 mila euro. qui troverete poi delle tabelle che potrete analizzare e che praticamente sono il frutto di un'analisi di cui sono quattro anni di bilancio. A questo devo ringraziare in modo particolare il nostro Revisore dei Conti e poi il Revisore dei Conti che si presenta perché da quest'anno anche che i Revisori dei Conti regionali sono da eleggere, il quale più che un Revisore è stato uno di noi, cioè praticamente è un consigliere, è colui che ci instrada sempre su quelle che sono la giusta gestione delle risorse ma anche la giusta gestione di come gestire questo e essere sempre corretti. Quindi per me è stata una garanzia sia di correttezza, quindi di non fare errori che ci potevano portare danni personali, sia nella gestione di quelle che sono il bilancio del Revisore. Tesseramento di Affiliazioni e appunto è il Dottor Granarelli, non dico che ha avuto il merito di presentarci qui Romano De Angelis e che effettivamente devo dire grazie perché, ripeto, è una persona, è Cristina, che è quella che si ammattisce dietro quelle che sono le gestioni, i computer, poi ci hanno cambiato il sistema di gestione già due o tre volte, quindi vi assicuro che non è semplice. Qui c'è il parametro del tesseramento di Affiliazioni che non vi leggo nel suo complesso ma vi faccio vedere i grafici e dico semplicemente alcune considerazioni che ognuno di noi poi può fare. Da questi dati si possono evidenziare una regione fatta a più velocità. Chiaramente il tesseramento non è altro che lo specchio di ciò che le società ulteriori sono a fare, cioè il tesserato è il prodotto del nostro movimento, è quello che poi va a fare un'attività attiva. E vediamo come ancora una volta negli anni più o meno le società sono rimaste intorno tra i 77 e i 79 società, che è quella di quest'anno, tra altre cose vorrete sentire 73 società che sono presenti quindi nel suo totale, sono le società che hanno diritto al voto, in realtà nel 2016 le società erano 79, con un andamento più o meno equilibrato come il numero di società nelle varie province. Dov'è la differenza? La differenza è nel numero di tesserati. Nel numero di tesserati che quest'anno siamo arrivati a 5.558 erano al 4 di novembre, posso dire che oggi sono 5.599, quindi siamo ancora aumentati di un 30 unità, che sono dovuti al tesseramento di esordienti, cadetti e ragazzi. Se voi vedete l'andamento nei vari anni, c'è una flessione netta nel 2014, poi risaliamo nel 2015 e nel 2016, con un andamento di leggera diminuzione di quello che sono gli esordienti, ragazzi e cadetti, mentre invece c'è un aumento di quello che è il movimento master, che appunto quest'anno ha superato il percentuale quello che è l'attività esordiente. Se noi andiamo a vedere le varie province, c'è appunto questo dato preoccupante che è quello di Pesaro e di Urbino, dove da molti anni ormai non riusciamo a far rinascere quello che è il potenziale dell'attività su pista. Perché voi potete pensare che di questi dati circa il 41% sono coloro che fanno attività su pista, mentre invece i rimanenti sono attività su strada. Chiaramente poi c'è il dato dei dirigenti e dei medici, questo è un dato conseguenziale al numero di società. Quindi l'analisi la lascio a voi. L'organizzazione del comitato regionale, qui praticamente abbiamo voluto in qualche modo riportare quella che è l'analisi, che è la Costituzione del comitato regionale in quanto organo operativo, quindi non parliamo dell'organo politico, che non trovate in questo specchio, non trovate per esempio il quadratino dei giudici e il quadratino del settore tecnico, perché consideriamo a parte due settori effettivamente operativi che poi andremo a valutare già avanti. Quindi la cosa che possiamo dire è che io sono veramente orgoglioso dei miei collaboratori, collaboratori che hanno dato vita anche a questo documento e credo che tutti voi siete in grado di capire che un documento di questo genere non si fa così di un giorno di corsa, è un documento che tiene conto di un impegno particolare, di una professionalità e quindi a loro dedico i successi di questo. Gli insuccessi poi quelli fanno parte delle responsabilità del capo. Io voglio in questo caso nominare dicendo che nell'area, chiamiamolo così, di là della signora Cristina Marino che abbiamo già prima annunciato, che la dirigente di quello che è, chiedo scusa, ancora non sei dirigente, è l'unica impiegata, chiedo scusa, è l'unica impiegata del comitato regionale, i cui costi sono per un quarto a cario del comitato regionale e per gli altri resto della federazione nazionale, è colui che di fatto assicura a quella, come ho detto prima, la gestione amministrativa e non solo, anche la presenza costante in comitato. L'abbiamo sollevata dalle altre manzioni, anche se lei comunque è disponibile sempre con tutti, perché appunto, ripeto, l'aspetto amministrativo porta via moltissimo tempo. Poi abbiamo un'area segretaria del Parlamento che è appunto Iori Bocogna, che è questo signore che è fianco, che in questi anni ha dato molto delle sue capacità e della sua disponibilità, che va al di là, diciamo, di quelle che sono le sue competenze. Poi c'è l'area informatica, Pietro Domenichelli, che avete visto prima al computer quello che ha fatto gli accrediti, ma è colui che in qualche modo, come possiamo dire, è il creatore, è colui che garantisce a tutti voi tutto ciò che informaticamente viene fatto attraverso la gestione delle manifestazioni, e non solo. Tutto quello che vedete sul computer, diciamo, si passa dalla sua testa. E, lo dirò anche per altre situazioni, è un altro di quei soggetti, in termini di persone, quindi, che noi abbiamo, diciamo così, messo a disposizione della federazione nazionale. Per sua soddisfazione, anche la federazione, ormai Pietro Domenichelli è diventato uno dei cardini di quella che è l'organizzazione nazionale della gestione delle manifestazioni fatte informate, quello che fa lo streaming, è una persona che ha un suo ruolo. Poi abbiamo tesseramento e social network, David DiBello, l'ultimo acquisto, negli ultimi anni e mezzo, colui che in questo momento sta dando questo nostro incontro in streaming. Quindi, è quello che praticamente gestisce i social network. Poi abbiamo Paola Santinelli, che ormai è un'istituzione che segue la parte dell'Egola Siclia e quant'altro, ma, a Piosturani hai più un posto. Non è in ritardo, lui era presente in altre federazioni. Poi c'è l'ufficio stampa, Luca Cassai che fonda la stanza, che è quello che in tutti questi quattro anni ha prodotto articoli e quant'altro. Poi ci sono due personaggi, per me infaticabili, che non so se sono qui dentro, che è Renato Cursi e Michele Nadegola, che sono, diciamo così, i proprietari del palaindo, per virgolette, nel senso sono quelli che fanno di tutto e senza di loro non so come potremmo fare. Poi c'è un nuovo acquisto, che è la signora Cristina Montemurro. Diciamo che è un acquisto, diciamo, esterno, che è un frutto di quella che è stata la collaborazione degli europei. Da quel momento lei ha dato, ora vedremo che avanti, il massimo contributo e da oggi è parte integrante del sistema. E qual è che ci dovrebbe far guadagnare un po' di soldi? Vediamo un po', perché se li guadagnano noi li guadagnano anche adesso. Poi faccio presente a Patrizio Chiamarini, che invece è un architetto che segue la parte della sicurezza. Perché non dimenticate che gestire il palaindo, per chi ha un'idea di quello che significa gestire una struttura, ci sono delle responsabilità che riguardano poi il Presidente, per cui prende un grosso stipendio per questo, che legata alle leggi attuali che sono veramente… per cui noi abbiamo per forza creato una struttura esterna che è la situazione della sicurezza. Territorio. Territorio che poi di fatto è qualcosa che poi rivedremo alla fine, che io ripropongo. In qualche modo noi abbiamo già scelto quattro anni fa quello di scegliere di avere i delegati provinciali, perché abbiamo visto che i comitati provinciali, una regione con la nostra, piccola come territorio, numericamente anche dimensionata, e quindi non avevamo bisogno di strutture, diciamo così, buologicamente costituite di un certo linee che avrebbe andato a togliere alle società ulteriori risorse umane. Abbiamo deciso di fare questa esperienza dei delegati provinciali. I delegati provinciali praticamente sono quelli che sul territorio debbono essere il motore, in modo particolare dell'attività provinciale, in modo particolare, e sorghiere di ragazzi, e sono quelli che tengono unite le società. Per questo motivo io ringrazio coloro che in questi quattro anni hanno fatto questo ruolo, e anche qui ricordiamo ancora una volta una perdita che è quella di Francesco Silvestri, che ci ha lasciato anche lui durante questo percorso, altro valido personaggio, personaggio storico della nostra retica, e andrò a riproporre poi, alla fine dell'Assemblea, anche se è una scelta del Consiglio regionale, non è una scelta dell'Assemblea regionale, però un parere su questo argomento. Io vorrei continuare su questo. Certamente non in tutti i casi, certamente anche per responsabilità del Comitato regionale, la figura del delegato provinciale ha portato ai risultati sperati, ovvero di svolgere efficacemente un ruolo di coordinamento e di stimolo nei confronti delle società del territorio per l'attività promozionale. Settore tecnico. L'obiettivo dell'attività tecnica del Comitato regionale, tramite il settore tecnico regionale, il fiduciario Mauro Fischerai, ha parlato tutto il mio ringraziamento e il mio grazie, perché ha svolto in questi quattro anni un lavoro che per me, egregio, è riuscito a mantenere un rapporto di grande equilibrio tra tutte le situazioni, e ritengo che siamo riusciti a raggiungere i miei obiettivi. Certamente non siamo mai al massimo, anzi. L'ottimo, come diceva qualcuno, non esiste mai, esiste di nuovo. L'ottimo significa che c'è la perfezione, ma la perfezione non è di questo mondo. Quindi, dicevo, queste sono realizzate in modo costante e profigo attraverso una continua dialettica tra i rispettati del settore tecnico e i tecnici sociali. La crescita culturale del movimento dei tecnici e degli atleti deve passare attraverso esperienze di giudizio, e meglio se in armonia. Questo crediamo sia avvenuto in questi quattro anni, durante i quali il rapporto tra i vari soggetti deputati all'attività tecnica è stato sempre di massimo rispetto e di massima collaborazione. I tecnici di struttura si sono sempre messi a disposizione e sono stati sempre aperti al confronto tecnico, creando i migliori presupposti per un'efficace attività. Di qui poi facciamo un elenco di quelle che sono state le attività svolte, in modo particolare i corsi istruttori, in cui noi, come vedete dallo schema, abbiamo acquisito nuovi tecnici allenatori. sapete che i tecnici vanno da istruttori, dagli allenatori e dagli specialisti. Abbiamo fatto molte incontri rappresentativi, che per noi è uno dei lavori più importanti, cioè attraverso le rappresentative abbiamo fatto crescere e fatto esperienze in modo particolare a categorie cadetti e aglieri. perché riteniamo che la junior poi è un altro rapporto, è un rapporto che va essenzialmente verso quello che sono il rapporto con le società. Quindi anche in questo cercheremo di migliorarci nel futuro. Qui c'è una rappresentativa che abbiamo fatto per la prima volta quest'anno, che è una rappresentativa trofea delle regioni master, dove ho visto che si è stato risvegliato anche in questa categoria, che è tipista chiaramente, un entusiasmo di atleti che sono ancora atleti, ma che lo sono stati in giunto veramente bello. Per cui è un'attività che cercheremo in qualche modo di continuare a sostenere. L'altro aspetto in cui abbiamo noi puntato, qui ci sono diciamo varie valutazioni, è quello dei raduni. Qui vedete dove i raduni che ormai da 15 anni, 16 anni, facciamo a Camerino e qui salutiamo Roberto Campiani che ha visto che ha avuto un'interruzione sulla sua strada, è arrivato in ritardo, e gli rivediamo quello che è stato detto prima. Un particolare ricordo, saluto a chi di voi sta vivendo per le situazioni veramente difficili. Campiani è uno di questi, dove noi facciamo normalmente il raduno in questi giorni, ha radunato, possiamo dire così, tanti lettini dove ci sono le persone che in qualche modo o non hanno più l'abitazione in fondo, tra le altre cose a lui ha la mia solidarietà personale perché anche lui è uno di quelli che purtroppo la sua casa dovrà essere rivista nel futuro. E quindi a Camerino noi continueremo a ritornare perché c'è un rapporto con l'università veramente bello in cui abbiamo istituito, abbiamo instaurato sì col CUS Camerino ma in modo particolare attraverso i vari vettori, non ultimo appunto questo attuale. L'altro schema vi riporta in maniera molto, molto sintetica quelle sono stati risultati dai tecnici nelle Marche e credo che siano, se noi li riportiamo a quello che è appunto, e ritorno a dire il numero di società che fanno attività su pista e il numero di atleti che fanno attività nelle Marche e il numero di abitanti, io credo che questi numeri sono veramente di valore. vedete appunto nei campionati italiani i vari titoli raggiunti, le medaglie tricolori, quelle rosso che lo sia dal primo al terzo posto e le altre maglie azzurre. A questo va aggiunto il movimento The Master e il quale raggiungiamo oltre i 100 titoli ogni anno. Di questi dati ringrazio in modo attivato anche Luca Cassai che come in ogni settore ognuno ha dato il suo piccolo modo di contributo. Poi noi abbiamo cercato a dire di continuare. L'organizzazione sportiva. Beh, qui ci sono tanti numeri. Tanti numeri che ci dicono come noi le gare che sono state organizzate, le gare gestite dal comitato regionale e qui vi lascio leggere la relazione. In modo particolare vorrei precisare credo che è stata l'organizzazione dei campionati italiani in questi anni nelle Marche. Se voi togliete a quei numeri i tre o quattro campionati indoor gli altri sono campionati italiani organizzati sul territorio. E vi leggo che sia un numero veramente importante e questo lo dobbiamo dire soltanto grazie allo sforzo e grazie alla volontà delle società. Perché ricordiamo che l'organizzazione del campionato italiano su pista non dà entrate, dà solo in qualche modo uscite. Per cui la soddisfazione di organizzare un campionato in modo particolare dobbiamo ricordare in questi anni l'Avis Macerata, l'Atletica Monte Cassiano, il Buon Ferretti che ormai a che edizione si è arrivato? 50? Edizione. 45. 45esima edizione del campionato italiano di marcia. Sono 45 anni che di seguito fa questo. Dato degli impianti sportivi è uno dei momenti di crisi nostra perché noi abbiamo pochi campi attuali nelle Marche e direi pochissimi veramente in ordine. i campi più utilizzati è Macerata, Ancona, Fermo, Monte Cassiano, Osimo, Ascriviceno, Fabriano e Castelfilano. Ognuno di questi ha organizzato chi molte manifestazioni, chi di meno, però tutte sono state utilizzate. In modo particolare dobbiamo rilevare il rifacimento, cioè la crisi degli impianti che abbiamo, cioè quelli praticamente non più efficienti o al limite dell'efficienza. In modo particolare passiamo a Fano, un impianto dove abbiamo organizzato di tutto, come d'altronde a Sedicabria, oggi non più utilizzabile perché non più idoneo. Iniziamo l'impianto delle canali dove a un certo punto hanno montato il mando sintetico per cui è diventato un impianto possibile da utilizzare soltanto grazie allo sforzo delle canali per alcuni meeting. Quindi siamo andati a perdere due punti di riferimento importanti. A questi dobbiamo poi dire che noi abbiamo due nuovi impianti, Pesaro e Tolentino, inaugurati in questi ultimi due anni, che noi non utilizziamo perché non c'è strutture sull'impianto. Pesaro sempre verbe notizie dell'altro giorno, telefonate, per cui sembra che stanno acquistando gli impianti. Così speriamo che anche con l'impianto riusciamo a far ripartire anche l'attività su quella provincia. Tolentino invece è un impianto che è nato così, poi credo che con la situazione anche che si dovrà creare col terremoto tante speranze noi abbiamo. Mentre invece dobbiamo essere veramente grati ai dirigenti dell'atletica di San Benedetto, la Collection, la quale con la loro caparbie d'arco, la loro pigna, come si direbbe in termini diciamo dialettali, è riuscita a far rinascere il campo di San Benedetto. L'abbiamo inaugurato nel mese di settembre-ottobre che quindi da quest'anno sarà uno dei punti di riferimento dell'atletica marchigiana e non solo. Sulla gestione delle gare dico che ormai vi abbiamo abituati male, nel senso che la gestione delle gare in modo attivato per la indoor è ai massimi livelli, sempre per quello che ci siamo detti prima perché ho delle persone veramente di alta qualità. Abbiamo un rapporto con la federazione crometristi di grande e molto intenso per cui non ci sono problemi e grazie alla strumentazione che abbiamo noi, come avete visto c'è il tabellone che è stato smontato perché stiamo facendo nuovo, è un'iniziativa che si è preso direttamente il comitato regionale in questo momento sperando che poi arrivino gli aiuti, però non potremmo andare avanti col vecchio che non funzionava più. E tutte quelle altre situazioni che praticamente sono legate durante il periodo internaio che arriva anche del materiale che arriva da fidanzia. In modo particolare la gestione delle gare su strada con TDS cosiddetta, la massima società di gestione di trasporti in Italia, con la quale abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione e dove stiamo gestendo le manifestazioni che chiedono il nostro contributo. Qui ci avrebbe un lungo discorso che non è il caso di fare, ci sono delle concorrenze comunque dei costi più bassi rispetto ai nostri. i nostri sono costi dovuti soltanto al noleggio del caspondo che si paga ed a un minimo di rimborso a coloro che per giorni interi stanno dietro alla gestione delle manifestazioni. Altri lo possono fare, non so per quale motivo ha costi più bassi, però qual è la differenza? La differenza è che noi gestiamo le manifestazioni e garantiamo agli organizzatori il massimo della correttezza della descrizione, ossia noi siamo in grado di vedere chi è testato o non è testato, se è scaduta la liberità sportiva o meno. Le altre situazioni io non credo che lo possano fare in tempo reale, se non attraverso sistemi diversi. Anche questo grazie al grande impegno di persone gestite e dirette da Pietro Domenichetti che si avvale poi gli altri collaboratori. Il calendario, avete visto che ormai il calendario è fatto in maniera informatica e dal calendario, come qui accenniamo, ci sono praticamente la possibilità di vedere, di fare film e quindi di utilizzare vari materiali. Le classiche dei gradatori primati, anche questo automaticamente si va a far questo, a volte mancano le dati che voi giustamente ci segnalate e noi cercheremo di mettere. Noi siamo una delle poche regioni che usa il top, il sigma top, che lo sia un sistema che ci permette di essere al di là del normale gestione informatica dell'evento del momento, ma va al di là perché in automatico prendo primati e altre situazioni. Poi arriviamo al sito, sito macchine e fila. Noi siamo una delle prime regioni che ha fatto un sito, diciamo, che potesse attuare, potesse in qualche modo attingere a quelli che sono i dati federali. E siamo stati uno dei primi ad andare ad uniformarci, in realtà sono gli altri che si sono uniformati dal nostro sistema, questo perché, non perché siamo più bravi, perché comunque noi abbiamo avuto sempre una, come si dice, una filosofia filo federale. Cioè noi, anche se qualcuno a volte poi avrebbe visto che noi siamo in contrapposizione, ma nella nostra visione noi siamo federazione e seguiamo in maniera decisa quello che la federazione in qualche modo fa, anche nel modo di esposizione. E vedete come è fatto il sito, che è più o meno uguale agli altri, che vedete anche gli altri, ma gli altri sono anche la relazione. A questo devo ringraziare Gabriele Falistocco, che è un altro personaggio che molti di voi non conoscono, ma i più vecchi lo conoscono, che è un'altra persona che è nata nella Marche, è nata con la gestione dei campionati studenti, grazie a averlo, diciamo, portato da noi la professoressa Iona che allora insegnava al liceo, e che oggi è uno dei massimi esperti informatici del settore e che, oltre a aver creato i primi nostri siti, oggi è quello che ha collaborato con la federazione per fare il sito di assoluto. Aggiungo che dalla FIDAL in questo settore partita un altro personaggio, FIDAL Marchi, che è Alessio Giovannini, il quale praticamente, voi ricordate, era il nostro uomo presente in comitale, quello che faceva la parte, diciamo così, non solo la parte dei giornalisti, ma era un po' quello che inseriva presentata quello che oggi fa sia Iuri, sia Davide, sia Pietro, chiaramente avendo meno tempo riusciva a raggiungere oggi, l'ufficio comunico stampa della FIDAL e direi che è uno dei punti cruciali. L'annuario, da diversi anni noi abbiamo fatto la scelta di stampare più l'annuario, a farlo in forma informatica e ognuno lo può trovare sul proprio sito e può scaricare. Gruppo Giudici Gare, anche qui trovate una serie di dati, ma che al di là del ringraziamento che dobbiamo dare al gruppo Giudici, gestito da Giovanni Ferrari, qui in funzione anche di Presidente della Commissione Verifica Potere, poi farà anche lo scullatore, un gruppo Giudici che si è dato sempre, per quanto ci riguarda, qualificando, anche qualche situazione non viene, come si dice, potrebbe sembrare di no. I numeri, come si dice, sono diminuiti, ma non è diminuito perché è diminuito il numero di giudici che è, perché praticamente è stato snellito dal punto di vista statistico, non si è voluto più tenere giudici che praticamente non facevano presenza e erano fatte di essere amici. Noi abbiamo cercato di supportarli, di supportarli dando gli errori del materiale, certamente non al massimo, e andando a coinvolgere in quelle che sono le manifestazioni al di fuori della regione, rappresentative e quant'altro, e abbiamo visto che questo ha dato dei buoni frutti. Sono entrati diversi questionaggi nuovi, in questo spieghiamo che anche altre settore ci aiutino in questo, che lo sia portando dentro le società, diciamo, dei gruppi di dirigenti che poi diventino una struttura del gruppo giudice. In questo devo dare un particolare ringraziamento, devo dire che sono stati molto bravi la città di Ossimo, la quale attraverso il loro giudice è riuscito a creare un gruppo molto attivo, molto presente e molto preso tra di loro, che poi alla fine è un vantaggio per la città stessa quando organizza ma è un vantaggio per la società stessa. L'idea giovanile. L'idea giovanile abbiamo fatto una pagina, questo è il terreno in cui Pino e Rosè in questi anni si è dibattuto e abbiamo avuto diversi momenti di, diciamo così, di confronto, ma credo che la novità che in questi quattro anni abbiamo cercato di mettere dentro il modello di attività, che è il modo attivato per i ragazzi, che non è un modello rettamente dettato alla creazione di momenti agonistici, ma è un modello che tendeva sia a stimolare la multidisciplinità dei ragazzi stessi, sia la formazione del ragazzo, sia il comportamento in campo e anche dando dei messaggi e degli obiettivi di attività. L'attività esordienti. L'esordienti è un altro momento particolare. Se guardate a leggere i numeri dei esordienti sono dei numeri che lasciano qualche perplessità, nel senso che dovrebbero essere molti di più. Se è vero che tutti coloro che fanno attività, diciamo, nelle attività, diciamo, giovanile, di promozione delle società, sono tesserati, probabilmente non tutti vengono tesserati, ma non è che questo è un problema. Per cui i numeri sono molti di più di quelli che vediamo nella statistica. Qui un altro aspetto che dobbiamo migliorarci, ovvero se l'attività esordienti deve essere fatta sempre più come un momento gioioso e di gioco che ti avvicina a quella che è l'attività vera e propria, l'attività, diciamo, della specializzazione, e deve essere fatta essenzialmente sul territorio. Cioè non dobbiamo chiedere alle società di fare grandi spostamenti. L'altro passaggio culturale che dobbiamo fare è che non possiamo pensare di fare dei calendari in cui un giorno facciamo quello e un giorno facciamo l'altro. Le domeniche sono quelle, le attività sono molte, per cui ci dobbiamo abituare a fare contemporaneamente la mattina da qualche parte esordienti, in qualche provincia, in qualche città, pure semplici altre attività. L'attività delle scuole. L'attività delle scuole, tutti noi ci riempiamo la bocca con quello che la scuola è in qualche modo il rapporto più difficile, nel senso sempre l'unico modo per fare il regolamento. Noi personalmente ho cercato, e anche qui c'è Pino Rosè che ha un rapporto stretto con le scuole, un rapporto, io dico, di parità, di collaborazione. Cioè nessuno è strumento dell'altro, ognuno è funzionale all'altro. Mi spiego, la scuola non può pensare di avere a disposizione una struttura federale giudice organizzata che gli organizza l'attività. La scuola deve pensare che insieme a noi ha un valido collaboratore ad organizzare eventi dai quali ognuno trae, diciamo, il suo beneficio. non il beneficio in termini di tessera messa, ma il beneficio in termini di giusto ruolo istituzionale. Credo in questo ci siamo riusciti a fare, cercheremo sempre di andare verso quello che è l'obiettivo della costruzione di giovani studenti che siano in grado di gestire le manifestazioni nei ruoli buoni. Palaindo, non vi leggo tutto quello che c'è scritto Palaindo, però andate a leggere. Palaindo, come voi potete pensare, immaginare, è l'aspetto, non più importante, l'aspetto, diciamo, pesante di questa gestione, ma nello stesso tempo è la gestione che ci dà a noi sia visibilità, sia visibilità, sia un ruolo di servizio. Palaindo è uno strumento al servizio dell'Italia. L'Italia lo ha capito, non perché diciamo che è l'unico pianto che c'è in Italia al di là di quello di Pala. E in questa logica noi ci siamo mossi. Il rapporto che attualmente c'è, c'è stato e ci sarà con l'attuale dirigenza, è un rapporto di grande collaborazione. Speriamo di avere delle risorse per poterci migliorare. Ci sono molte persone che ci lavorano e ci credono, ci credo anch'io. chiaramente va migliorato in qualche modo quello che è il rapporto anche con l'amministrazione comunale, la quale sicuramente fa molto, però credo che debba esserci un ruolo diverso. Un ruolo anche qui non di dire, ah si voi siete bravi fate pure, ma quello di dire, beh, anche noi ci mettiamo del nostro. Il nostro significa, al di là dei soldi, ma il nostro significa anche a volte credere nella funzione di una struttura che non sempre ce la ricordiamo perché c'è terremoto ci dobbiamo mettere a dormire i terremotanti, per carità, noi siamo pronti. E' stata l'unica struttura che è stata aperta ai nostri, i quali ognuno di noi ha accettato, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Ci aspetteremo però in qualche modo poi anche dei ritorni diversi. e qui è un rapporto che va, diciamo, avevo invitato l'assessore, il quale si è giustificato e si scusa e vi saluta, ma va bene così. I numeri ci sono, vedete quelle che sono le presenze e il palaindro, l'altra cosa da mettere in evidenza è che ormai il palaindro è diventato anche una sede istituzionale dell'attività paraolimpica, FISDIR e FISPES, ormai da anni loro iniziano i loro campionati e attraverso questo è nato un grande ruolo di collaborazione con loro e di disponibilità. La presenza di Taccisio Ascetti ha anche dimostrazione di questo e rappresenta quel mondo. L'altra cosa che va detta è che speriamo di migliorare anche la sensibilità della città di Ancona su quello che è il palaindro, perché purtroppo anche in questo la città di Ancona ne beneficia moltissimo, se voi pensate ai movimenti, però non sempre troviamo, direi raramente, troviamo delle risposte adeguate a livello di amministrazione. Questo forse è il problema di tutti e via dicendo. Qui alla fine c'è un dato che va corretto quando alla fine si parla della presenza dei giovani a 3.730 giovani al giorno, in realtà non è al giorno, ma ad anno, diciamo. C'è un'altra lunga relazione su quello che è stato il campionato europeo Master Team. Vi dico solo che il campionato europeo Master Team è stato un'altra scommessa. Personalmente mi ero detto dalla fine del 2009 che non avrei più fatto un'esperienza di quel genere, perché fu un'esperienza bellissima, pesante, dove appunto avevo potuto toccare in quell'occasione anche la scarsa rispondenza economica del territorio. Allora, per cui nel momento in cui si è presentata la federazione europea ci ha chiesto di organizzare l'evento, ci siamo proposti noi, io infine ho detto ci sto, io ci metto tutto quello che è il nostro lavoro, però non posso pensare di rischiare un centesimo sul comitato regionale, per cui è stata accettata questa organizzazione a condizione che il bilancio federale, che il bilancio dell'Italia europea è a carico del territorio. Tant'è vero, purtroppo abbiamo chiuso con uno sbilancio di 18.000 euro che comunque è a carico della FIDA. A questo vorrei farvi notare quelle che sono state le presenze, di cui quelle azzurre sono italiane, quindi parliamo di oltre 3.092 atleti, di cui 2.000 stranieri, 2.000 stranieri, noi avevamo qui 2.000 con accompagnatori. Come ho detto prima, qui è stata molto importante la collaborazione con la 2MTUR, di cui appunto il titolare è Cristina Montemurro, con la quale, al di là di quello che è stato il suo sforzo di recuperare collaborazioni con gli alberghi, invece abbiamo provato l'opposto per farvi capire che solo il 30% dei posti sono stati messi a disposizione dell'azienda, dell'agenzia. Gli altri, gli alberghi, se li sono venduti a costi superiori a quelli che avevamo convenzionato noi. Questo è farvi capire a volte come funziona il nostro mondo. non ci si può fare nulla, non lo so come fare, l'unica soluzione potrebbe essere quella di comprare un anno prima tutti i posti con gli spiagni conseguenti. Però la cosa importante è questa, abbiamo fatto un lavoro di oltre 1.000 padone, 140-150 volontari, abbiamo coinvolto due istituti e abbiamo avuto la scoperta ancora una volta che i nostri giovani sono dei veri potenziali. Persone che sono qui, forse che c'era un rapporto scuola-lavoro, stendanza scuola-lavoro. Beh, abbiamo trovato persone che stavano qui dalla mattina alla sera con entusiasmo, con partecipazione. All'altro aspetto è che abbiamo consolidato ancora di più il rapporto tra noi, dove io ho avuto a fianco delle persone veramente base, quindi parlo tra noi i consiglieri, che si sono dati anche loro giorno e sera a questa manifestazione. Io pensavo che saremmo venuti fuori rotti. Beh, io ho trovato gente che mi ha convidato, quando ne facciamo un anno? Non ne parliamo. Comunicazione. L'ufficio stampa della Regione ha provveduto nel corso del quadri anno a cercare di dare articoli, forse ne sarebbero molti, ma io ritengo rispetto al passato quel passaggio in più che abbiamo fatto. A questo dobbiamo ringraziare Luca Cassari che è in fondo alla stanza. Sono i numeri degli articoli che lui comunque ha prodotto ai giornali e che comunque sono stati versi sui siti. Qui c'è un altro aspetto, il social network. Questo era il passaggio nuovo, praticamente, che ci è stato fatto appunto grazie all'impegno del nostro giovane Davide. E qui ci sono dei dati, chi capisce di questa roba li può tradurre in effetti. È stato un effetto veramente, veramente, veramente importante. Concludo con il discorso della TV. La TV abbiamo portato avanti il solito discorso della trasmissione televisiva che cercheremo di portare avanti. Conclusione. Il Comitato regionale Marchi ha nel corso del suo mandato doverosamente applicato le disposizioni manali della Federazione Nazionale sia in termini economici che organizzativi. I risultati positivi ottenuti devono essere considerati come prodotti di tutta la trasmissione delle Marchi. E sono dovuti all'ottimo impegno delle società e del Comitato regionale che conosce un corso mandato. Per quanto riguardano gli aspetti negativi, quello che possiamo ammettare è la scarsa attenzione in termini di investimenti economici e imprenditori, in particolar modo angoledani, che pur traendono debole benefici dell'attività che si svolge dal palaindo, non rispondono positivamente alle richieste di investire maggiori energie di certi sottitori e fonti terze di introi. Vogliamo inoltre l'occasione per ringraziare invece tutti gli amici che questi anni ci hanno sostenuto e che continuano a farlo. Altro aspetto su cui certamente dovrà lavorare il prossimo Consiglio è l'approfondimento delle relazioni con gli enti locali, non sempre particolarmente attenti al nostro mondo. Un aspetto che è importante sottolineare praticamente l'attività svolta in questo mandato è l'intensificanza e la collaborazione nel mondo dello sport parolimpico sia con il Comitato della Generali CIP sia con le federazioni FISP e FISDIR. Vorrei dire qui Mauro Fischerai, anche lui ha avuto l'esperienza di fare le Olimpiadi, è un valido responsabile del settore della FISDIR e FISDIR. Quindi ancora un merito a lui e questo poi ha dato la possibilità di integrarci maggiormente anche attraverso i corsi. Le attività regionali di queste ultime sono state sempre inserite nei campionati regionali, quindi parliamo FISDIR e FISP, soffrendo da parte nostra la massima collaborazione sia organizzativa che con il gruppo giudicicale. Ancora si è ormai affermata che il servizio fisico dei campionati italiani parolimpico della FISDIR è diventato riferimento anche per le attività internazionali. In un'ottica di investimento sul futuro dell'atletica si è cercato di favorire la collaborazione con la scuola, supportando al massimo possibile gli insegnanti di educazione fisica nel loro lavoro e il viaggiamento all'atletico. Sono stati organizzati corsi di aggiornamento e ci sono stati disponibili ai tecnici federali ad allenamenti in comune. Abbiamo avviato la formazione dei studenti nel ruolo sia di gestione che di giudizio delle manifestazioni scolastiche. In conclusione ci richiede di aver sostanzialmente raggiunto in una quasi totalità gli obiettivi previstati nella relazione programmatica al momento dell'insediamento di questo Consiglio. Con l'augurio e la speranza che la presente relazione possa essere un utile strumento di riflessione e programmazione del prossimo Consiglio regionale. Grazie. 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 Consigliere nazionale della Giunta a Coni. Innanzitutto grazie di essere venuto e poi a te la parola. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto chiedo scusa del ritardo, ma c'è la federazione italiana Tennis che è lo stesso per dirigere il proprio gruppo dirigente e il proprio presidente. mi pare anche lì candidato unico, insomma, però lo hanno votato e quindi credo che sia giusto. Però, come dire, non potevo mancare, commentiamola così, non solo per la gratitudine personale e, diciamo, a nome anche del gruppo sportivo, per il lavoro che Fidel Marche ha portato avanti, quindi il direttore Appino e tutto il suo staff per questi quattro anni. Per l'impegno che continuerà, perché poi qui c'è, siete chiamati a leggerlo il nuovo gruppo dirigente, a partire da Appino, ma insomma credo che insieme sarà importante proseguire su questo lavoro. E ha fatto bene Scorsoso nella relazione parlare di squadra. Mi pare che questo sia un po' il lavoro eccellente che è stato portato avanti in questi anni dal vostro comitato, dall'altro la consapevolezza di essere una regione piccola, ma una regione importante e fondamentale per l'atletica a livello nazionale. E vorrei dire una cosa anche, come dire, al di là del palindor, poi sul palindorcito, al di là, diciamo, di questa struttura, Fidel Marche ha sottuto in questi anni garantire grandi manifestazioni e eventi a livello nazionale e credo che sia la capacità organizzativa, tecnica, di essere radicati sul territorio. E non è facile. Sappiamo che la fase, dal punto di vista anche sociale e economico, non è facile. trovare sponsor è sempre più difficile. L'atletica, come dire, non tira più rispetto ad altre discipline sportive, è sacrificio. Sappiamo anche che su questo abbiamo la necessità di garantire, di avere però, punti di riferimento regionali e nazionali. Io penso che, al di là dei risultati non esaltanti alle ultime Olimpiadi, qualche sfortuna, il termine serve un altro, insomma, che c'è stata in questa edizione, come noi possiamo continuare e proseguire per la crescita del movimento sportivo che parte dall'atletica come elemento centrale di tutta l'attività motoria e di quella cultura sportiva che esiste. Penso che quindi su questo vada ringraziato la Fidel. Devo dire un rapporto anche positivo e riconosciuto dalla Fidel nazionale, dal suo Presidente Giovi, ma dal gruppo dirigente. Dal punto non si può prescindere, insomma, da quello che qui si è costruito. Penso che dobbiamo farlo per, e non solo per la vicenda Palindora, ma comunque Palindora è un punto imprescindibile della predica nazionale. la dico con una battuta, e non è solo Tamberi o Latroste che oggi si allenano qui nella nostra città, ma credo per tutto quello che si è costruito e che si continuerà a costruire e valorizzare all'interno del nostro territorio. Il che significa che, se da un lato dobbiamo essere contenti, manifestazioni indoor, il rapporto con il CIP, i campionati europei Master che ormai sono diventati comunque, siamo l'unica città che ha ospitato due edizioni, insomma, quindi qualche, no, e soprattutto la FIDA che l'ha organizzati, dicendo, e facendola dare un punto di riferimento per la predica, ma anche per la capacità organizzativa. Io ricordo l'edizione del 2009 che è stato il segnale di come poi è cambiato l'organizzazione tecnica anche all'interno della Palindora per tutte le altre manifestazioni, quindi la capacità di essere punto di riferimento, ma anche di organizzazione tecnologica importante su cui poter poi fare affidamento. Da ultimo, quindi su questo continueremo, io spero che continueremo a ragionare. Stiamo lavorando, un po' tribolando, mettiamolo in questo senso, con i palazzi romani per avere il giusto riconoscimento di questo impianto come, tra l'altro è stato scritto nel programma elettorale di Giovi, se ricordo bene, come centro federale dell'atletica in donna. Non potrebbe essere riferimento, lo dico anche in maniera molto banale, insomma, anche a livello nazionale quando mi incontro con i vostri dirigenti dico, sì, è vero, c'è Padova, ma l'unico centro vero, reale, come dire, valido per l'atletica a livello nazionale, internazionale, è la cittadina e il Palindori ancora. Che non vuol dire che non ci debbano essere altri impianti, anzi benvengano, perché credo che sia questo del lavoro su cui dobbiamo morire. Dobbiamo pensare a migliorare ovviamente questo impianto e a qualificarlo ulteriormente, diciamo c'è un impegno da parte del Presidente Malagò su questo, mi fermo qui, l'impegno c'è ma bisogna avere gli atti, insomma, quindi si sta lavorando anche rispetto alle questioni che abbiamo davanti. Due buone notizie, intanto che sono stati, se ricordo bene, finanziati due i centri di atletica nella Regione Matto, uno è Pesaro, l'altro è in provincia di Macerata, se non ricordo male, dal sport e periferie, quindi credo che questo sia comunque un primo segnale. tra l'altro sono soldi a fondo perduto questi tempi. Eh? E non mi ricordo, ce ne erano un paio adesso. Peso non sono sicuro perché ho già parlato con Silvio. Porto Sant'Epi. Non mi ricordo, credo Porto Sant'Epi. Porto Sant'Epi. Però mi pare ce ne erano due, diciamo, legati all'atletica, ecco, quindi credo che sia questo importante. Quindi questo è un primo elemento. Siccome veniva, leggendo la relazione, c'era qualche criticità sull'impianto di Pesaro, si può iniziare a ragionare e lavorare con l'amministrazione comunale rispetto all'altro, se lo ricordo bene, progettare la sua attrezzatura. Sicuramente soltanto per esserci. Secondo, se lo metto come impegno e come valorizzazione ulteriore, c'è una... stiamo discutendo all'interno della Regione Marche di come fare il bando per la distribuzione del finanziamento sull'impiantistica sportiva. Non è così semplice, è un po' burocratico, ma insomma ce la faremo a venirne fuori, anche su quello credo che sarà il segnale importante per, diciamo, lo sport marchigiano dopo tanti anni. Non sono troppe risorse per adesso, speriamo di mettercene probabilmente nei prossimi bilanci anche se la situazione è assai critica dovuta alla questione del terremoto. lì ci saranno finanziamenti sia in parte a fondo prodotto sia in parte a tasso zero sulla questione del tasso di interesse che possono essere utilizzati e verificati sia dagli enti locali ma anche direttamente dall'associazione sportiva. Quindi su questo magari discuteremo nel nel proseguo delle prossime settimane su come riusciremo ad andare. Quindi da ultimo ringraziamento anche a nome del Presidente della Regione al scorzoso per l'immediata disponibilità per questa struttura per ospitare i terremotati o comunque la situazione di pubblicità che abbiamo avuto 15 giorni fa e non è che anche nella città capoluogo e credo che tanto più, questa è una riflessione, perché dovremmo anche ragionare in termini molto più ampi, perché vedete il dramma è che abbiamo tanti comuni, sono 122, poi i bode sul terremoto della nostra regione sono una marea, tanti, abbiamo avuto disastri soprattutto sulle abitazioni, sui monumenti ma anche sulle strutture pubbliche a partire dagli impianti sportivi e quindi questo è un problema su cui dovremmo riflettere su come programmare prossimamente. Ma dall'altro lato abbiamo visto e assicurato alla protezione civile e all'emergenza dei comuni tanti impianti sportivi come punto di riferimento di certezza. Quindi anche qui ho un ragionamento importante, penso a Camerino ma penso a tanti altri città che hanno saputo utilizzare giustamente nell'emergenza di impianti sportivi e quindi anche collocare in questo una funzione sociale e di solidarietà e di gestione dell'emergenza fondamentale, sul quale a volte non si riflette ma credo che invece sia un patrimonio culturale della nostra regione e del nostro territorio che valorizza e responsabilizza ancora di più coloro che hanno investito in questi anni sugli impianti sportivi e che sono sempre di più e continuano ad essere un punto di riferimento per il nostro lavoro. Che dire, siamo contenti e orgogliosi del lavoro svolto dalla FIDAL Market, ce ne sono tanti di manifestazione, non parlo dei master e del tutto il resto, degli eventi sportivi che riusciamo a organizzare, sono sicuro e convinto che saranno altri quattro anni di adeguato impegno e di ottimi risultati che la nostra atletica marchigiana può portare avanti con il lavoro che continuerà ad essere svolto da Piero Sforzoso e da tutto il suo gruppo dirigente. Saremo al vostro sianco. Buon lavoro. Grazie a Fabio Sturani. Allora andiamo avanti con la nostra assemblea, non senza ricordare che in questo mandato nel 2015 si è anche festeggiato il decimo anno del Palaindo che guarda caso è nato quando sindaco di Ancona era Fabio Sturani. Non è una casualità. Pino, relazione programmatica del candidato presidente e dei consiglieri regionali e poi apriamo il dibattito e gli interventi. Ho messo un orologio più perché non vorrei utilizzare più di dieci minuti, nel senso che la relazione viene distribuita. Posso dire che via di massimo segue quello che è la relazione dei quattro anni, chiaramente andando a cercare di perfezionare quello che non è in questo periodo abbiamo ritenuto, diciamo, le criticità. Faccio riferimento su alcuni passaggi, solo la premessa. Voglio prima di tutto ringraziare tutta la delega marchigiana per aver deciso di confermare su di me come candidato unico alla presidenza del prossimo quadrieno. E' un onore e una responsabilità che sento profondamente. E' un inciso. Nella relazione finale io non ho mai nominato i consiglieri. quindi questi sono presenti. Veramente non perché è una dimenticanza, ma perché, come ho sempre detto, ringrazio tutti e ho ritenuto che il Consiglio, nel suo complesso, ognuno per le proprie capacità e per le proprie disponibilità abbiano dato il massimo e sono stati con me solidari. e quindi ciò che di positivo appunto, ho detto, deve essere valutato nel passato, lo dovete fare insieme a me, ma in modo per attivarlo. La squadra, senza i suoi componenti, non va da nessuna parte. Auspico però che, e sarà uno dei miei impegni nel corso del mandato, che fra quattro anni ci siano almeno due candidati per la guida del Comitato regionale, così che dal confronto possa emergere un Presidente di qualità sempre più alta. Noi, in tal senso, uno degli obiettivi del Quadriere 2017-2020 è quello di favorire la crescita di un gruppo di dirigenti regionali e entusiasti competenti e innovativi. Come Presidente mi impegno a migliorare la criticità emerse nella relazione del mandato precedente e modificare le linee d'azione nei settori nei quali il Consiglio riterrà opportuno un cambio di rotta. Sottolineo il ruolo e l'importanza dell'organo collegiale perché, pur garantendo, come ho sempre fatto, la piena assunzione di responsabilità dell'operato del Consiglio, la mia linea guida sarà la condivisione di indirizzi e decisioni con tutti i consiglieri che saranno eletti oggi. Non solo il nuovo Consiglio sarà composto da sei persone, ma il mio obiettivo è quello di coinvolgere sulle diverse tematiche anche altri soggetti che rappresentino le esigenze del nostro territorio, il coinvolgimento e la partecipazione attiva dietro l'atletica saranno fondamentali non solo per superare le sfide dei prossimi quattro anni, ma anche per rappresentare e rinforzare la nostra identità come regione nel contesto nazionale. Una settimana fa l'atletica italiana ha confermato al suo Giovi il presidente. Anche in occasione di quelle elezioni le Marche si sono distinte per la unitarietà della scelta e dell'impegno, seppur alla fine perdente. Voglio dirlo chiaramente, nei prossimi quattro anni Giovi sarà il mio e il nostro presidente, con la massima lealtà e proprio nella certezza che le Marche saranno rispettate e ascoltate nel loro complesso, ribadisco che lavoreremo in collaborazione con il Presidente e con tutto il Consiglio federale naturalmente con la libertà di criticare e pumbolare quanto sarà necessario per l'atletica. chiaramente poi nella gestione economica finanziaria, al ripercorro più o meno quelle che sono state le cose già dette, chiaramente l'obiettivo è quello di avere sempre una gestione populata, sperando di ritrovare anche nuove risorse. Organizzazione, comitato e territorio. Dal punto di vista organizzativo cercherò di migliorare continuamente il dialogo e la collaborazione verso le società e verso gli associati, che dal lato vorrei si sentissero sempre più rappresentati dal Comitato regionale, ma che dall'altro invita a farsi essi stessi promotori di partecipazione. L'ovvia conseguenza di questa linea è il modello di maggiore collegialità nell'operatività del Consiglio, nel quale il Presidente cambia un ruolo di coordinamento del lavoro dei consiglieri, assegnando a ognuno precise deleghe e responsabilità. Per fare ciò sarà fondamentale poter contare su un Consiglio di persone motivate, presenti e anche con capacità operative. Il rapporto con il territorio sarà riorganizzato nell'ottica di una maggiore presenza e attenzione. I delegati provinciali saranno il primo riferimento delle società e avranno il compito di rappresentare, stimolare e organizzare tutte le attività necessarie alla vita sportiva della propria zona di competenza. In particolare intendo nominare per ogni provincia un delegato provinciale che raccoglie le funzioni previste dallo Statuto e comportare attenzione alle attività promozionali scolastiche. Per poter meglio organizzare e coordinare le attività su strada saranno nominati e rappresentanti a livello provinciale di questo settore che avranno il compito di coordinare e monitorare le attività e rappresentare le esigenze ed eventuali difficoltà che le società possano incontrare nelle proprie operarie. Tutte queste figure verranno costantemente coinvolte nella vita del Comitato regionale e prenderanno parte delle unioni allargate del Consiglio regionale. La loro attività inoltre sarà sottoposta a verifica ogni anno dal Consiglio regionale con la possibilità di confermare o sostituire le persone incaricate. Chiaramente in questo poi c'è proprio il rapporto poi con l'altro rapporto abbastanza complesso con gli enti di promozione sportiva in modo particolare in qualche territorio. Il settore del depio andremo avanti su questa linea già fatta con l'idea però di continuare a migliorare quello che è il binomio tecnico-atleta e a coinvolgere maggiormente i giovani in risorse. L'organizzazione sportiva cercheremo di migliorare quella già attuale. Poi andremo qui a specificare alcuni passaggi ma in modo particolare ci direi che alla fine dei quattro anni avremo ancora più compreso come è importante gestire le manifestazioni, vivere con passione ma con correttezza e con un giusto rapporto sia con le capacità organizzative di singoli sia con i giudici. In questo cercheremo di essere massimo supporto alle società che organizzeranno aiutandole a crescere. Gruppo giudici cari, dobbiamo dare il nostro supporto maggiore quello che abbiamo dato fino adesso e cercare di coinvolgere anche altre società a far sì che ognuno di loro possa fare un proprio gruppo di giudici cari. Che non debba essere per forza un gruppo di massimo livello ma che abbia i tre livelli diversi. Pall'Indo d'Ancona, l'ha detto prima Fabio Sturani, Pall'Indo d'Ancona ci sta avviando a un rapporto anche di grande importanza nel settore nazionale. La presenza di Gianmarco D'Amperi e Alessa Trost sarà lunga la raggiunta. Nello stesso tempo sarà anche una difficoltà dal punto di vista gestionale. Per più a questo chiederemo maggiore comprensione da parte di chi utilizzerà l'impianto. Fino a che non riusciremo a fare un settore separato per questa specialità. Comunicazione, andremo avanti su questa strada. Rivaluteremo alcuni progetti fin qui portati avanti come quello di come portare avanti e se portare avanti il nostro rapporto con la tradizione. Conclusione. In conclusione mi auguro che sappiate scegliere le persone più idonee a dirige l'attività della nostra regione per i prossimi quattro anni. Persone che alberate la propria provenienza territoriale e societaria, sappiano a visitare il loro mandato gli interessi, le necessità, le aspirazioni di tutta la delica marchigiana. Gli anni che ci attengono saranno certamente anni pieni di difficoltà e di sfide che personalmente sovrenobbano l'entusiasmo, pazienza e positività. Grazie, andiamo avanti con la nostra assemblea. A questo punto è prevista l'intervento dei componenti dell'assemblea. ricordo che sempre a norma del regolamento organico, articolo 44,7, possono intervenire tutti coloro e 8, tutti coloro che ne abbiano fatta richiesta scritta, ovviamente possono intervenire anche mettendole poi a verbale anche coloro che non hanno fatto richiesta scritta. Noi per semplicità avevamo preparato questa tabella, ci sono già due partecipanti all'assemblea che intendono intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno, per ordine di prenotazione, del Moro Angelo Pasquale della Twin Atletica Marche. Ha chiesto di dare un suo contributo, ne ha facoltà e può intervenire. Eccolo qua, grazie Pasquale. Prego. Buongiorno a tutti. Si è concesso un saluto particolarissimo agli amici ex Presidenti. Emeriti come... Emeriti. All'amico Romano De Angelis e all'amico Paolo Maria. E perché questo? Perché ritorno al passato. Negli anni 70, all'inizio degli anni 70, inizio la mia attività da dirigente tra virgolette e questi signori erano responsabili, uno a livello nazionale e l'altro a livello regionale della nostra federazione. Bene, un saluto particolare, vi si è concesso oltre a salutare tutti i presenti, i colleghi delegati, i presidenti, alla neoconsigliere Ida Nicolini, quale auguriamo, penso tutti, buon lavoro e è un bel lavoro oltretutto. Le macchie questa volta erano comparte all'assemblea, ma siamo usciti un po' con le ossa rotte. Ma non tanto, perché tre dei nostri candidati sono stati eletti e pertanto qualcosa di nuovo penso che possa portare all'interno della futura federazione. Ma che dire, il mio è un intervento articolato, pur se nel tema, ma dopo l'intervento del presidente Uscendi, nonché presidente candidato, l'unico candidato con la sua relazione programmatica, non mi resta nient'altro a dire, ha detto tutto lui. Allora, faccio solo alcune osservazioni sulle cose su cui dovremmo migliorare. Per la promozione, il progetto scuola se ne parla, molte società lo fanno, diverse, molte forse no. Chi vi parla nel suo piccolo paese svolge questo progetto scuola da sempre con il progetto Renato, per ricordare un grande personaggio della nostra atletica, Renato Rocchetti. E lo facciamo da sempre, però individualmente. Chi vi parla deve andare a rinegoziare ogni volta con il dirigente nuovo, con gli insegnanti che cambiano, il tutto con grosse difficoltà. Apro il chiudo la parentesi, festa dell'atleta, che noi ogni anno facciamo cinquandesima edizione quest'anno e chiediamo la sala di torno. Problemi per avere la sala della scuola, dove noi diamo l'anima come società sportiva. Ecco, per dire il tipo di rapporto, perché se questo progetto scuola non cade dall'alto, per noi è sempre più difficile. E ve lo dice uno che nella scuola va a lavorare, ma difficilissimo, da sempre. E allora dovremmo inventarci qualcosa. Qui lo dico al futuro presidente, unico candidato, lo dico al consigliere nazionale. perché non fare dei centri pilota? Lattore ci sono i presupposti tra l'ente pertanto comune, scuola e la società sportiva che opera sul territorio. Incominciamo con alcuni centri pilota e vediamo quello che uscirà fuori. Un lavoro più capillare pertanto in periferia, ma questo è già questo progetto scuola che parte dalle periferie e incomincia ad essere un aspetto molto importante appunto per fare un lavoro molto più capillare. Per quanto riguarda lo sviluppo della nostra attività, ma che è un'attività intensissima, forse noi stiamo facendo anche troppo per le nostre forze. Parlo del nostro comitato, il comitato uscente è quello che verrà. Il presidente l'aveva appena accennato e nel suo programma l'attività esordienti. Attenzione, chi mi parla è in contrasto anche con il suo fratello, il mio fratello, il direttore del più della società, sono in contrasto per alcuni punti di vedere l'attività degli esordienti. Io sostengo che nella categoria di esordienti noi dobbiamo dare uno spazio enorme, ma il suo spazio, con un'attività autogestita e calentarizzare l'attività, non metterla all'interno di un camminato di società, di un meeting e di una riunione dove portiamo sì tanta gente, l'ultimo minuti di tempo, l'ultima gara qui a Ancona, tantissima gente, ma sono partito, sottoscritto a luna da casa per entrare alla sera del 9 e mezzo, 21 e 30. Quanti genitori sono disposti a fare questo? Poi mandiamo bei messaggi secondo me? No. Tantissima gente, ma bei messaggi non arrivo. Allora dovremmo fare un'attività, e qui qualcosa è trapegato dalla relazione programmatica discorsoso, solo per la categoria di esordienti, autogestita. Troviamo il modo, ma dovremmo fare un qualcosa per… perché questo? Questo dico. Il verbigiorno che è a contatto con i ragazzini da sempre. Perché tantissime discipline, calcio in testa, facciamo questo tipo di rivalità, e ci dilubano. E non lo fanno attività. Fanno i campionati di calcio, fanno i campionati di minibus, fanno attività. Noi non lo facciamo se non esporadicamente. Allora, sta a noi come educatori, come insegnanti, come tecnici, di non esasperare l'aspetto di preparazione. Dobbiamo farli giocare, ma è vero anche che li dobbiamo far gareggiare, senza esasperare il concetto agonistico. Poi il ragazzino agonista per natura non è che ci occorre che noi gli diamo la spinta. Non lo fanno. Non dobbiamo esasperare la preparazione, ma farli gareggiare. Dall'inizio dell'anno i nostri ragazzini che vengono ai nostri centri di corio, centri ovviamente dello sport e li vogliamo chiamare, devono sapere quello che fanno durante l'anno. Lo fanno con altre discipline, altrimenti ci riportano via. Poi, è ovvio, i messaggi che arrivano a casa sono per il calcio, per il volley, per gli sport dove c'è una palla. E allora a maggior ragione non dovremmo fare un tipo di attività da dove c'è possibile fatta in maniera più razionale e più certosina, oserei direi. Una cosa che a me sta particolarmente a cuore è l'organizzazione delle manifestazioni. Noi abbiamo assistito quest'anno, a manifestazioni quest'anno, per dire l'anno scorso, per dire gli anni passati, non dico cerimonie funebre, ma quasi. L'importanza è di avere un conduttorio, chiamiamolo speaker, nelle manifestazioni di Atletica del Cielo. Laddove è stato fatto, abbiamo fatto vivere alle famiglie, ai pochi appassionati, o tanti che sono venuti e sono rimasti per ore sugli spazi, abbiamo fatto vivere questa meravigliosa disciplina. Laddove non viene fatto veramente è una cerimonia funebre. Non diamo bei messaggi, non vendiamo il nostro prodotto, che è bellissimo, ma lo dobbiamo saper vendere. Il consiglio, l'appello che posso dare al futuro consiglio è di fare da subito, tra tutte le mille cose, dei corsi per speaker. O annunciatori, o conduttori, chiamiamoli come vogliamo. Diventa fondamentale, diventa per la nostra disciplina fondamentale. Altre cose, ma tra le righe si leggeva e poi lascio la parola agli altri, mai più fare manifestazioni di fiume. Dicevo poche anzi non si può partire da casa a luna del pomeriggio per ritornare alla sera alle 9, 9-10 di sera delle volte. Cerchiamo di fare manifestazioni snelle. E' vero anche che chi organizza è pressato perché chi viene chiesto a questa gara o a quell'altra gara, ma cerchiamo di fare metà programma. In modo che tre ore massimo lo spettacolo deve finire, se no non è più spettacolo, diventa noia, diventa pesante. E poi ripeto, se non c'è neanche chi ti fa vivere la manifestazione, ultima cosa sempre in merito alla manifestazione, la segnaletica, segnalare a chi è in tribuna il risultato del salto in lungo, del salto in alto, del lancio del disco. Ci abbiamo i tabelloni dentro i magazzini e non vengono tirati fuori. e nessuno sa perché lo speaker non può arrivare o non c'è, o non arriva su tutte le pedane e non viviamo l'atletica. Piccole cose, piccole cose che ci deve far crescere. Ultimo appello, un progetto al futuro consiglio per quello che riguarda l'attività della categoria ragazzi. Noi stiamo facendo un bellissimo progetto nelle Marche, forse ne ho capito da tutti Pino. E perché se andiamo a leggere i numeri, vediamo che potrebbero partecipare o concludere questo progetto molti più ragazzi, molti più ragazze. Le ragazze per la verità quest'anno ce ne sono state abbastanza, i ragazzini un po' meno, ma se il movimento nostro è questo. Però dicevo, in questo progetto, che è per le prove multiple chiamiamole, che è uno dei miei pallini oltre alla marcia, ma oltre a tutte le discipline, perché piacciono a tutte. Dobbiamo fare la classifica a squadre, se lo vogliamo fare questo progetto, su quattro discipline, non su tre. Scusami, sparlo forse solo per gli attenti, perché se facciamo solo tre su quattro e andiamo a vedere i risultati, io ogni tanto mi diverto, Marche a mezzo fondo non fa nessuno. E dico io, stiamo facendo i topi da sala, tutti quanti che fanno prove brevi, velocità, salti lungo, salti in alto, non corre più nessuno. Siamo nati per correre. Prima di tutti noi siamo nati per correre. Non corre più nessuno. I master, ma i giovanissimi, i piccoli, non corrono quando devono correre. Questo è un appello. Portare questo progetto, quattro prove, una di velocità, una di resistenza, una di salti e una di danci. E poi la classifica individuale potremmo fatta sul triadro, ma poi vediamo, mi rendo disponibile, non c'ho nessun incarico, però mi rendo disponibile, come sempre d'altronde, alla collaborazione. Per i miei eletti c'è un bel gruppo quest'anno, nutritissimo, e chi verrà eletto o qualche altro forse non ce la farà, beh, un grande in bocca al lupo di buon lavoro. Grazie. Grazie Adel Moro. Chiamo un attimo all'intervento, quello che si è prenotato Marani Andrea, dell'Atletica Vallesina. Non ci sono numerosissimi interventi, ricordo comunque a tutti coloro che intervengono di contenere il loro intervento, se non fosse altro, entro 5 massimo 10 minuti. Grazie. Buongiorno a tutti. Parecchie cose che volevo dire, me le ha rubate Pasquale, perché condivido praticamente al 100% tutto quello che ha proposto. Diciamo l'argomento che ho scritto è sull'Atleta. l'Atleta è inteso proprio nella sua pienezza, perché vedo che a livello federale si dà molta importanza alla società e l'Atleta viene dimenticato. Cioè, tutto è impermiato sull'attività sociale, tant'è vero che anche il diritto al voto viene dato soprattutto per chi ha svolto campionati federali. Cioè, a più punti, chi ha svolto campionati federali che è quello che magari può avere uno o due Atleti di livello che però non ha una società che lo supporta, diciamo, nel completamento di tutte le gare previste del CPS. Invece penso che, dopo tanto poi all'Olimpiade non ci va la società, ci va l'Atleta. Onde per cui noi dobbiamo impermeare tutti i nostri sforzi, tutte le categorie, i dirigenti sociali, i giudici, tutti quanti per quest'Atleta. Pertanto noi non lavoriamo per le società, ma nelle società si lavora per l'Atleta. Io direi di non perdere di vista questo particolare che è importante. Per l'Atleta nel settore giovanile diciamo che Pasquale ha ampiamente sviluppato il discorso. Io per discorsi esorbienti sarei per un'attività locale, come ha detto Pasquale, ma non nel fine settimana. Perché il calcio a livello giovanile, per quanto noi possiamo dir male del calcio per tanti aspetti, però loro organizzano incontri di lunedì, di mercoledì, di giovedì. Noi potremmo tranquillamente mettere in orario di allenamento previsto per gli esordienti un incontro tra le tre e quattro società più vicine alla società che ha voglia di fare un qualcosa di questo genere che duri il tempo di una partita di calcio. Un'ora, un'ora e mezzo, un'attività non ufficiale, chiamiamo giudici di gara, un'attività ufficiosa, tipo un allenamento controllato dove noi ci mettiamo d'accordo veramente con le società vicini ore e diciamo oggi, non so, facciamo il forte sei cinquanta metri. E lì finisce la manifestazione. La società che organizza, dopo attorno ovviamente se ci si mette d'accordo con tre o quattro società, ogni volta uno organizza nel suo campo, anche in campi non omologati, e soprattutto vengo da Iesi dove il campo è un pezzo che non è più omologato perché sono 28 anni che l'amministrazione non spegne un soldo per la pista d'atletica. Però è un impianto dove un'attività esordiente si potrebbe fare terribilamenti. Vicino a me c'è Chiaravalle, tanto per fare un esempio, c'è Falconare, dove di solito le gare non si fanno mai appunto per un discorso di un'omologazione o un'omologazione. Siamo troppo bloccati da tutti questi regolamenti. Forse per la cattività esordiente io sarei un tantino più elastico da questo punto di vista. Pertanto se si riesce a trovare un accordo tra società vicine si muovono, fanno quei 20-30 chilometri in macchina massimo i genitori, li portano, non so, mettiamo alle ore 5, iniziano queste competizioni, alle 6-6 e mezzo, alla fine merenda per tutti. Il pane cioccolato, quello che è, che lo organizza la società e che ospita. È una premiazione con dei gadget, non c'è bisogno che siano medaglie, e poi si va tutti a casa. Se si riesce a creare una struttura di questo genere si riescono a fare sette, otto, dieci manifestazioni, non so, per dire ancora poter organizzare una indoor, visto che è il pala indoor, ma in mezzo alla settimana, perché il sabato e la domenica siamo sempre farciti di competizioni. I personaggi siamo sempre questi, non è che c'è un allenatore più esordiente, uno per i cadetti, uno per gli allievi, siamo sempre queste persone che si muovono in continuazione. Se per caso ci abbiamo quel giorno, non so, è un'attività su pista, un sabato e sera, un'attività su pista con una categoria cadetti, come facciamo a stare dietro agli esordietti? Poi domenica mattina abbiamo anche una gara su strada e qualcuno potrebbe anche essere allenato in mezzo fondo e deve andare alla gara su strada, non riesce a seguire gli esordienti. Allora, gli esordienti troviamo queste scapotaggi che non le facciamo gareggiare, però adesso non dico qualche manifestazione, anche a fine settimana si può fare, però io punterei molto sul discorso infrasettimanale e breve, perché la maggior parte dei ragazzi di questa categoria si sono disamorati e soprattutto i genitori, noi dobbiamo guardare anche l'aspetto genitoriale, si sono disamorati a questa attività per la durata infinita della manifestazione, perché all'interno ci mettiamo due gare esordienti, cinque gare ragazzi, qualche gara di contorno junior, senior e non si finisce più, anche perché molto spesso io ho notato, qualcuno mi ha anche criticato per il mio modo sanguigno di espormi, però io perché siccome ancora ci credo nell'atletica e nonostante che l'età mi avanza, però ci provo sempre a dare il mio contributo, c'è poco controllo su come formulare l'orario della manifestazione, dove si trovano concentrate delle gare o troppo diluite nel tempo, pertanto ci troviamo, come è successo a Macerata, con quattro gare ragazzi e ragazzi in venti minuti, poi magari ce n'è un'altra dopo un'ora e mezzo, bisogna trovare un sistema per cui chi approva le manifestazioni deve fare due conti e vedere se la manifestazione può scorrere fluidamente oppure se potrebbero crearsi degli intotti. Le categorie giovanili, io non penso che nessuno ci condannerebbe, io parlo fino ai ragazzi, se noi utilizziamo due rettiline, se non utilizziamo sto benedetto crometraggio elettrico a queste categorie, io penso che si possa fare, in modo che svegliamo un po' la manifestazione, è vero che l'altro rettilineo non è possibile perché la federazione non prevede che nel declino non d'arrivo si possano fare delle competizioni, però io li userei. Li userei, beh, dove ci sono due penane magari metto più concorsi, dove invece la penane unica i concorsi ne metto meno perché sennò veramente succede un ingorgo incredibile, specie quando si parla di salti in lungo. E allora noi dobbiamo proteggere questa immagine dell'atleta che deve venire contento, finire la manifestazione in orario decente, il genitore va a casa soddisfatto, e come ha detto Pasquale con uno speakeraggio che valga la pena, ma non c'è bisogno di far col suo speaker, basta avere un po' di dialettica e conoscere un po' diciamo come il mondo nostro, io penso che qualsiasi o allenatore o dirigente sia capace di mettersi avanti un microfono e dire qualcosa durante la manifestazione e leggere risultati, magari far dire qualcosa a qualche ragazzo che ha ottenuto una qualche performance, è contento, gli metti un microfono di fronte, non gli sembra vero a quest'età qua. queste piccole cose aspettano soprattutto a chi organizza la gara. Sì, io dico va bene, io organizzo il campionato di società oppure... però sarebbe il caso che organizzassi anche questa struttura intorno, non solo di giurie, ma anche tutto il resto, se poi ci sono dei microfoni volanti, in quelli mobili dove noi possiamo mettere due o tre persone che girano per le pedali meglio uno. Per cambiare di società succede spesso che gli atleti si disamorano. Perché si disamorano? Perché le seconde scelte di solito sono costretti a fare gare frustranti, ovvero coprire i buchi dei campionati di società. Non è molto edificante per ragazzini non top dover fare la marcia quando non l'hanno mai fatta, fare il salto con l'asta per fare un metro e mezzo per coprire la gara. Queste cose qui dovremmo cercare di evitare, però la federazione ci impone. Sta bene detto il campionato di società tra cui io non approvo la presenza della marcia in pista. Scuserete, ma se all'Unione Pia c'è la 20-15, non capisco perché si faccia in pista. Penso che la marcia sia un'attività da fare esclusivamente su strada. Ma questo, a mio parere, è personale. Poi anche troppo lunga, categoria ragazzi, due chilometri, per chi non ha fatto mai, è vero che cinque scelte ti prevede di fare quattro gare diverse. Ma far affrontare un ragazzino che non è che abbia tutte queste capacità di resistenza due chilometri in marcia è abbastanza impegnativo. È il ruolo più brutto del Presidente dell'Assemblea. Andrea, devo chiedere per cortesia di stringere perché sennò non riusciamo con gli altri interventi. Grazie. Niente, volevo sottolineare questo. Per quel che riguarda le prove multiple, tanto per finire, soprattutto per l'attività assoluta, ci sta il Decathlon. Nessuno ha mai pensato a organizzare solo la prima giornata di Decathlon, tanto per dare lo stimolo per poter affrontare un giorno tutto il Decathlon, perché la prima giornata è chiunque capace di affrontarla, perché 100, lungo, offeso, alto e 400. La seconda giornata è più tecnica, però se uno intanto avesse delle manifestazioni dove ci sono solo le prime cinque gare, magari si appassiona, comincia ad abituarsi all'asta, agli ostacoli e piano piano potremo portarlo a farle prove inutili. Sono degli accorgimenti che ci vuole tanto, però sarebbe il caso di adottare. Comunque complimenti a Pino Rosè, che devo dire che ha fatto un lavoro mostruoso quest'anno per l'attività giovanile, e non so chi sarebbe capace di fare una cosa simile che lo ammiro per tutto l'impegno che ha messo per tutto l'anno, anche se qualche volta ha avuto qualcosa da ridire, ma è giusto, la dialettica ci sta. Va bene, grazie. Grazie Andrea per l'intervento. Si sono promotati a verbale per parlare Pacetti Taccisi, oggi rappresentanza del CIP. Buongiorno a tutti. Ovviamente più bello è quello dell'uomo dello Sportacoli, non posso andare via, devo stampire per forza. No. Buongiorno a tutti, Presidente. Generalmente uno dice ma qui o nessuno vuole fare il presidente della FIDAL o questo ci ha gli attributi? Beh, fino scorzoso agli attributi. Io mi chiamo Taccisio Pacetti, sono referente del mondo scuola del Comitato Italiano Paralimpico Marche e rappresento qui oggi il presidente Luca Savoiali. io non so che razza del paura ci avete voi Atrio. Io non provengo dal mondo dell'Atletica, ma mi sento un uomo di Atletica. Voi ci avete, il movimento è l'Atletica. Che problema ci avete a portare nelle scuole questo movimento? Che problema ci avete a portare dentro la gente? Nella pallavolo dobbiamo metterci la palla per fare contenti i giocatori, gli altri ragazzi. Nella basket è il pallone più grosso ancora. E voi quel problema ci avete. Dovete sfruttare quello che la natura già va dato. Il movimento. Basta. Detto questo vorrei, fino scorzoso incominciò, tempo addietro, a fare una collaborazione con i cifre. L'hai detto? Spero che tu ampli sempre più le braccia, caro presidente, verso questo movimento. Non basta, vogliamo sempre di più. Hai visto le parole in piedi? Siamo orgogliosi. E qui tu prima hai incensato un uomo che è stato in piedi. Io non dico di quanti in piedi, ma vogliamo fare un grande applauso a Fischerai che porta avanti questi ragazzi per fare in piedi. Per fare in piedi. Adesso è un vostro intervento per il piano di Atletica. Bene, grazie caro. E intanto faccio anche un lucidale. Per me è chiaro, eh? Perché il 4 di gennaio noi faremo un evento dove gli uomini, i personaggi cardini, sono dell'Atletica. Porteremo dei personaggi a Falconara dove si chiamerà l'evento campioni nello sport, eroi nella vita. E io penso che voi, se ci siete tutti qua, quando andate via, forse cambierete un pochetto la visione della vostra vita verso il mondo paralimpico non solo. Non mi illudo. Parole grosse? Non lo so, non me ne frega. Io aspettico quello che sento. Sicuramente andrete via dal palasporto a Badiani il 4 gennaio in qualcosa di diverso. Magari anche ballerete, uomini e donne. Ci sarà qualcosa di particolare. Ma ricordatelo. Hai segnato Presidente? Grazie. Approfitto di una cosa. Qui oggi c'è la consigliera nazionale. Quello che spero tanto è che nelle vostre riunioni a livello regionale, provinciale, nazionale, quando fate un meeting, non invitate solo il fortunato, il normo dotato. chiamate insieme lo stesso personaggio, lo stesso sport. Se chiamate Tamberi, chiamate anche l'uomo del Sardinato, se chiamate Elisa di Franziska, chiamate anche Bebe. Bebe io parlo. E chiunque altro. Cerchiamo di fare in modo che la nostra cultura sia paritaria. grazie, scusate, buona giornata. Grazie a signor Facetti Taccisio. Secondo me continuiamo a non comprendere quanto sia profondamente cambiato il contesto sociale nel quale operiamo, quanto siano cambiati i giovani e quanto, in contrapunto, noi abbiamo invece difficoltà ad entrare. Il nostro rapporto con il territorio è un rapporto effettivamente molto debole, molto fiacco. E non è soltanto migliorando le questioni tecniche o dando una durata inferiore alle nostre gare che noi possiamo in qualche modo aprirci al mondo esterno. Abbiamo una difficoltà nell'avere appeal nei territori in cui operiamo. La nostra attività sta sempre diventando più riservata ai master, sempre più autoreferenziale, in un mondo che è chiuso ed è un mondo profondamente egoista. E lo ripeto, egoista. Perché tutto punta soltanto sul piacimento individuale e non su un discorso sociale più ampio. Il nostro modo di rivolgersi al mondo giovanile che è un mondo molto evoluto che già usa linguaggi complessi, già all'età esordiente usa linguaggi complessi, è ancora un'azione troppo fiacca, troppo debole. Continuiamo a concepire l'agonismo come fosse una pecca a quest'età. In realtà, questi soggetti, questi cittadini sono già dentro un contesto agonistico molto perverso e molto intenso. E noi continuiamo invece ad andare verso una sponda che non considera questi soggetti come dei veri e propri sportivi con una carenza motoria notevolissima. E qui la scuola certamente non ci dà la mano. Allora da questo punto di vista credo che sarebbe importante se noi riuscissimo a creare un osservatorio a mettere in piedi una commissione di persone che studiano come è meglio rapportarci con il territorio. Io ricordo delle unioni degli anni 70. C'erano dei dirigenti non soltanto sociali ma anche federali che avevano poco più di vent'anni. E dentro quei vent'anni c'era l'energia di quel tempo. E non era un'energia era un'energia che col territorio era collegata ed era in grado di muovere nel territorio risorse, soggetti, collaborazioni. Aveva un rapporto con il territorio credibile. Quanti conoscono nella nostra realtà chi pratica atletica? Possono conoscere chi propone e organizza manifestazioni di corsa su strada ma tutto finisce nell'ambito di quell'evento e produce una privazione di risorse anche chi fa sport e lo fa a livello giovanile con tutto quello che comporta. Campi che non sono efficienti vorrei ricordare l'esperienza dei ricanati una struttura costata alla comunità nel 92 economicamente e oggi è ridotta a non riuscire più ad ospitare. Perché? Perché ci sono sport che hanno più appeal perché oggi alla politica che non dialoga più con i territori vicini conviene più soddisfare quel tipo di realtà. Noi siamo dentro questa situazione e la sentiamo tutta. La sentiamo a volte nell'impotenza di non riuscire ad andare oltre a non coinvolgere più i ragazzi che una volta che hanno praticato uno, due o tre gare poi alla fine li perdiamo e non riusciamo più ad avere un collegamento reale. Questo per noi è una questione vitale è una questione importante senza soggetti nuovi che si appassionano all'atletica avremo un futuro effettivamente molto corto. Tutto quello che è stato fatto nella nostra ragione è stato fatto con una grande determinazione e con una grande capacità a livello gestionario organizzativo credo che la generosità delle macchie sia stata non soltanto effumabile ma unica per quello che rappresentiamo. Però al Comitato regionale manca l'energia della società, manca. Manca in termini di uomini che danno apporto di idee e di collaborazione. Ed è chiaro che se viene a mancare l'apporto col territorio complessivamente quello che riusciamo a produrre anche in termini di risultati di talenti da produrre viene meno. Per cui chiedo questo se possiamo nel prossimo quadriennio realizzare questo osservatorio questo Comitato che propone, produce idee da realizzare sul territorio in vero di promozione. Grazie. Grazie al signor Antonio Sandro ha chiesto di parlare prenotandosi a verbale il signor Brutti dell'ASA Ascoli dirigente. Ecco, che arriva, lo vedo. Il giusto. Buongiorno. Prima di iniziare sono Antonio Brutti Presidente dell'ASA Ascoli ringrazio il Presidente Scorsoso per l'impegno che mette a portare avanti questo nostro Comitato. Però diciamo che se non mettiamo anche noi società anche noi Presidenti un pochettino di impegno a collaborare certo il Presidente Scorsoso può fare poco. Io parto dall'analisi che ho fatto in questi giorni nella società. Noi quest'anno siamo stati presenti in 70 competizioni qui nelle Marche con i ragazzi con il settore assoluto con tutti. E organizziamo tre meeting ad Ascoli ad aprile fino ad aprile diciamo inizio della stagione agonistica su pista a luglio diciamo passi alla fine della stagione estiva e a settembre ottobre. Bene. mettiamo sempre anche su richiesta di alcune società delle gare che riguardano i ragazzi settore giovanile. Bene. E noi ci fermiamo se andiamo a vedere la partecipazione delle società che aderiscono ci fermiamo a Porto San Giorgio. Non capiamo perché. Vengono magari da Giulianova vengono da Teramo vengono da altre società limitrofe le marche rispondono quasi a zero. Porto San Giorgio poi finisce. Perché questo? Perché non c'è questa collaborazione con l'ASA? Noi partecipiamo a tutti i meeting partecipiamo a tutte le gare che si organizzano sul territorio perché il nostro interesse fa il gareggiare i ragazzi. Invece non c'è rispondenza dalle altre. Quindi se se non ci diamo anche noi una mossa se non ci diamo un segnale di collaborazione tra noi inutile che parliamo di attività giovanile perché poi saremo costretti a noi e farci le gare in casa con noi o andare a Teramo o andare a giovanone o andare in un'altra parte. Quindi io mi rivolgo ai Presidenti se si organizzano delle manifestazioni vale, sì qualcuno mi ha detto parlando a Pasquale forse qualche manifestazione si prolunga troppo è troppa ricca benissimo noi siamo ben disposti ad accettare tutte le indicazioni suggerimenti però ragazzi siamo ad Asquale non siamo a cadicativo a fine del mondo una pista accettabile in pianta accettabile che la gabbia di l'angi il petana di l'angi del giavellotto il petana di saldo con l'asta perché non c'è questa rispondenza? io vorrei una risposta veramente se no riusciamo ecco non facciamo più di chiudiamolo lì vi ringrazio allora grazie grazie al dirigente della Zascoli signor Brutti allora siamo all'ordine del giorno entriamo nel vivo e quindi entriamo nell'elezione delle cariche federali regionali allora io come Presidente dell'Assemblea in questa maniera chiedo anche il vostro consenso la Commissione verifica poteri non riuscirà in questo momento ad accogliervi tutti e quindi a darvi tutte le mostre per cui ho fatto questa scaletta se voi siete d'accordo darei in prima battuta e privilegerei le società che provengono dalla provincia di Macerata che è quella più colpita dall'evento del terremoto subito dopo le province che sono più distanti e quindi Ascoli e Fermo quindi tutte le società di Ascoli e di Fermo quindi direi confluenza prima società di Macerata poi Ascoli e Fermo e in ultimo Pesaro e Ancona ok? se poi ci sono particolari esigenze da parte di alcune società mi rischio in particolare a quelle di Pesaro che comunque sono sempre anche abbastanza distanti se ci sono delle particolari richieste siamo qui pronti però ecco l'ordine dovrebbe essere questo solo ed esclusivamente per una questione poi di consegna di buste come sapete possono essere dati nelle schede che vi verranno assegnate in particolare per quanto riguarda l'elezione a carica di consigliere regionale cinque preferenze le marche assenze dell'allegato 1 dello statuto federale avendo appunto una consistenza da 41 a 80 società può nominare da 5 a 6 consiglieri noi oggi rileggiamo 6 più il presidente siamo fermi purtroppo a 79 Presidente se facciamo un paio di società in più andiamo allo scaglione dopo potremmo nominare da 7 a 8 quindi le elezioni sono aperte società di macerata poi fermo e ascoli quindi tutte le società delle due province in modo che vi consegnano le buste ma aspettiamo 5 minuti poi a seguire le facciamo tutte quindi tra 5 minuti provincia di fermo e ascoli poi pesare ancora per quanto riguarda pesaro se ci sono particolari esigenze le verbalizziamo le verbalizziamo così anche loro sono distanti e possono andare si tratta soltanto di una questione di consegna di buste grazie e buona giornata grazie 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Guardate. Ora, iniziamo con i voti dei consiglieri. Intanto dichiaro chiuse le elezioni. iniziamo lo scrutinio allora cerchiamo di fare in questa maniera io li leggo con calma Pietro li inserisce a computer ma facciamo anche il riscontro cartaceo quindi qualcuno poi eccoci là ok allora 50 voti Agaviti, Rosè e Giuseppe Bacchiocchi, Graziano Bambozzi, Sergio Cambriani, Roberto Catena, Franco Voti 100 Agaviti, Rosè e Giuseppe Bambozzi, Sergio Cambriani, Roberto Romagnoli, Fabio Vecchi, Ennio, Fausto Voti 100 Agaviti, Rosè e Giuseppe Bambozzi, Sergio Cambriani, Roberto Romagnoli, Fabio Sanna, Leonardo Voti 100 Bacchiocchi, Graziano So chi siete Bambozzi, Sergio Sì, seguiremo Cambriani, Roberto Camilletti, Luciano Vecchi, Ennio, Fausto Voti 100 Agaviti, Rosè e Giuseppe Agaviti, Rosè e Giuseppe Agaviti, Rosè e Giuseppe Agaviti, Rosè e Giuseppe Catena, Franco Romagnoli, Fabio Romagnoli, Fabio Sanna, Leonardo Vecchi, Ennio, Fausto Voti 100 Agaviti, Rosè e Giuseppe Bacchiocchi, Graziano Voti 100 Cambriani, Roberto Cambriani, Roberto Camilletti, Luciano Romagnoli, Fabio Voti 100 Agaviti, Rosè e Giuseppe Cambriani, Roberto Cambriani, Roberto Moscatelli, Roberto Romagnoli, Fabio Sanna, Leonardo Voti 100 Agaviti, Rosè e Giuseppe Cambriani, Roberto Moscatelli, Roberto Sanna, Leonardo Voti 100 Cambriani, Roberto Moscatelli, Roberto Vecchi, Ennio, Fausto Voti 100 Voti 100 Agaviti Rosai Giuseppe Cambriani Roberto Camilletti Luciano Romagnoli Fabio Sanna Leonardo Voti 100 Agaviti Rosai Giuseppe Cambriani Roberto Camilletti Luciano Romagnoli Fabio Sanna Leonardo Voti 100 Agaviti Rosai Giuseppe Bacchiocchi Graziano Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Voti 100 Agaviti Rosai Giuseppe Cambriani Roberto Camilletti Luciano Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Voti 100 Cambriani Roberto Voti 10 Maud Grid Voti 100 Maud wall Voti 10 Agaviti Rosai Giuseppe Vitting Voti 100, Agabiti Rosa Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Voti 100, Agabiti Rosa Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Voti 100, Agabiti Rosa Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Cento, Agabiti Rosa Giuseppe, Cambriani Roberto, Catena Franco, Moscatelli Roberto, Vecchi Ennio Fausto, Voti 100, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Moscatelli Roberto, Sanna Leonardo, Vecchi Ennio Fausto. Pietro, adesso schede da 50, sono tutte fino al contoordine, allora 50 quindi, Agabiti Rosa Giuseppe, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Ancora, Gaviti Rosa Giuseppe, Gaviti Rosa Giuseppe, Bacchiocchi Graziano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Voti 50, Cambriani Roberto, Bambossi Sergio, Camilletti Luciano, Camilletti Luciano, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Catena Franco, Vecchi Ennio Fausto, Agabiti Rosa Giuseppe, Bambossi Sergio, Cambriani Roberto, Romagnoli Fabio, Vecchi Ennio Fausto, Agabiti Rosa Giuseppe, Cambriani Roberto, Agabiti Rosa Giuseppe, Cambriani Roberto, Moscatelli Roberto, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Agabiti Rosa Giuseppe, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Agabiti Rosa Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Sanna Leonardo, Pietro finite le schede da 50 da 20, fino a nuovo ordine tutte da 20, Sanna Leonardo, Agabiti Rosa Giuseppe, Agabiti Rosa Giuseppe, Cambriani Roberto, Romagnoli Fabio, Agabiti Rosa Giuseppe, Bacchiocchi Graziano, Romagnoli Fabio, Bacchiocchi Graziano, Bambossi Sergio, Camilletti Luciano, Bambossi Sergio, Camilletti Luciano, Agabiti Rosa Giuseppe, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Romagnoli Fabio, Romagnoli Fabio, C Mmo N Marco, Romagnoli Fabio, Agabiti Rosè Giuseppe, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Catena Marco, Marani Andrea Maria, Agabiti Rosè Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Agabiti Rosè Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Agabiti Rosè Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Agabiti Rosè Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Pietro passiamo alla scheda dei voti validi 10, bene, tutto a posto Ok, voti 10, Agabiti Rosè Giuseppe, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Fabio, Agabiti Rosè Giuseppe, Bambossi Sergio, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio Fabio, Bambossi Sergio, Camilletti Luciano, Catena Franco, Colonnella Angelo, Petrelli Luigi, Agabiti Luigi, Agabiti Luisa Giuseppe, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Cambriani Roberto, Moscatelli Roberto, Cagliari Roberto, Cagliari Vecchi Ennio Fausto, Cambriani Roberto, Vecchi Ennio Fausto, Agabiti Rosè Giuseppe, Bambossi Sergio, Cambriani Roberto, Romagnoli Fabio, Vecchi Ennio Fausto, Marani Andrea Marega, Agabiti Rosè Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio Fabio, Sanna Leonardo, Agabiti Rosè Giuseppe, Cambriani Roberto, Moscatelli Roberto, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Agabiti Camilletti Rosè Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Agabiti Rosè Giuseppe, Cambriani Roberto, Cambriani Roberto, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Moscatelli Roberto, Romagnoli Fabio, Cambriani Roberto, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Agabiti Cambriani Roberto, Cambriani Roberto, Vecchi Ennio Fausto, Agabiti Rosè Giuseppe, Cambriani Romabiti Rosè Giuseppe, Cambriani Fabio, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Cambriani Vecchi Ennio Fausto Agaviti Rosè Giuseppe Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Sanna Leonardo Agaviti Rosè Giuseppe Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Sanna Leonardo Sono concuse le schede da 5 e passiamo dall'ultima e le schede da 1 Agaviti Rosè Giuseppe Cambriani Roberto Camilletti Luciano Moscatelli Roberto Romagnoli Fabio Agaviti Rosè Giuseppe Cambriani Roberto Camilletti Luciano Moscatelli Roberto Romagnoli Fabio Cambriani Roberto Camilletti Luciano Catena Franco Catena Franco Vecchi Ennio Fausto Cambriani Roberto Camilletti Luciano Catena Franco Vecchi Ennio Fausto Agaviti Rosè Giuseppe Bacchiocchi Bacchiocchi Graziano Catena Franco Romagnoli Fabio Romagnoli Fabio Sanna Leonardo Bacchiocchi Graziano Romagnoli Fabio Bacchiocchi Graziano Romagnoli Fabio Romagnoli Fabio Romagnoli Fabio Sanna Leonardo Sanna Leonardo Bambozzi Sergio Camilletti Luciano Bacchiocchi Graziano Camilletti Luciano Agaviti Rosè Giuseppe Cambriani Roberto Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Agaviti Rosè Giuseppe Cambriani Roberto Camilletti Luciano Camilletti Luciano Romagnoli Fabio Romagnoli Fabio Sanna Leonardo Agaviti Rosè Giuseppe Bacchiocchi Graziano Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Bacchiocchi Fabio Agaviti Rosè Giuseppe Bacchiocchi Graziano Camilletti Luciano Camilletti Luciano Cato Catena Franco Romagnoli Fabio Agabiti Rosè Giuseppe Bacchiocchi Graziano Bambozzi Ser... No, scusa, rettifico Camilletti Luciano Non Bambozzi, scusate Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Agabiti Rosè Giuseppe Bacchiocchi Graziano Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Agabiti Rosè Giuseppe Cambriani Roberto Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Cambriani Roberto Moscatelli Roberto Vecchi Ennio Fausto Cambriani Roberto Moscatelli Roberto Vecchi Ennio Fausto Agabiti Rosè Giuseppe Cambriani Roberto Moscatelli Roberto Moscatelli Roberto Romagnoli Fabio Sanna Leonardo Agabiti Rosè Giuseppe Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Romagnoli Fabio Sanna Leonardo Agabiti Rosè Giuseppe Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Romagnoli Fabio Sanna Leonardo Agabiti Rosè Giuseppe Camilletti Luciano Catena Franco Catena Franco Romagnoli Fabio Sanna Leonardo Agabiti Rosè Giuseppe Agabiti Rosè Giuseppe Camilletti Luciano Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Romagnoli Fabio Romagnoli Fabio Agabiti Rosè Giuseppe Camilletti Luciano Camilletti Luciano Catena Franco Romagnoli Fabio Romagnoli Fabio Bacchiocchi Graziano, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Catrina Franco. Lo spoglio per i consiglieri, Pietro è finito. C'è già una prima proiezione, poi facciamo, se ce l'hai lo leggo da qui. Sei troppo fiducioso sulle mie possibilità di vista. Allora abbiamo Agaviti Rosa Giuseppe 2465, Romagnoli Fabio 2317, Cambriani Roberto 2129, Camilletti Luciano 1737, Sanna Leonardo 1661, Franco Catena 1368, Vecchienio Fausto 939, Moscatelli Roberto 795, Bambozzi Sergio 522, Bacchiocchi Graziano 495, Marai Andrea Maria 30, Colonella Angelo 10, Petrelli Luigi 10, schede bianche nessuna, schede nulla nessuna, quindi primi 6 dovrebbero essere, Agaviti Rosa Giuseppe, Romagnoli Fabio, Cambriani Roberto, Camilletti Luciano, Sanna Leonardo, e Franco Catena. Allora passiamo alle schede, queste le facciamo più... Carica di presidente, Pietro. Grazie. ... Grazie. Grazie. Allora, ovviamente, previo controllo di schede bianche o nulle, direi di procedere per la nomina del Presidente in questa maniera, Pietro, anche perché ti facilitiamo, contiamo le schede, ok? Quindi le contiamo, dopodiché ti do il numero da 100, ti dico quante sono, facciamo la moltiplicazione, se no... Prima contiamo, quelle da 100 le stiamo ancora sistemando, contiamo prima quelle da 100, verifichiamo se sono tutte valide, poi piano piano, facciamo quelle da 50, mi aiuta in questo contesto a Ferrari che conta quelle da 50, poi andiamo avanti, facciamo quelle da 20, quelle da 10, 5 e così via discorrendo, penso che sia molto più semplice. Verifichiamo se c'è la crocetta su tutte, se c'è qualche segno strano nella scheda, non posso farla dichiarare nulla, se no facciamo un dettaglio. Allora, 22 schede da 100 voti, tutte valide, non bianche per Giuseppe Scorzoso. 20 schede da 50, tutte valide per Giuseppe Scorzoso. 14 schede da 20, tutte valide per Giuseppe Scorzoso. 14 schede da 10, 11 schede da 10, 6 da 5, Grazie. 30 da un voto. Tutte valide. Giuseppe Scorzoso. Già fatto il conto? Sì, 3.650. Allora, nuovo presidente, Giuseppe Scorzoso. Allora, vi ripasso le schede così le mettiamo una parte. Ok, passiamo adesso ad aprire la nomina di revisore dei conti. E facciamo con lo stesso iter a Pietro. Mi sembra uno molto più semplice. Archiviamo queste schede. Facciamo stesso metodo ai miei sfruttatori. Grazie. 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 Grazie a lui. Grazie. 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 22 schede da 100, 10 da 50. 14 da 20, 11 da 10. 6 da 5, 30 da 1. Allora, per Pino, secondo me, metteremo qualche ordine. Troppo Pino, però, in totale, non può. Comunque, dopo li verifichiamo. Potrebbe essere probabile contare? Li verifichiamo in trattato. 3.680 per tutti e due. Perché non ha contato, non ha insegnato il Presidente in 30 da 5. 6 per 5, 30. Ti importa quanto? 2.680. 3.680. 3.680. 3.680. Allora, lo scrutinio è finito. Salvo poi controlli incrociati tra terminale e cartaceo. Io dichiaro chiusa l'assemblea, chiusa le lezioni e lo scrutinio. Ok? Ok? Ok. Grazie.